Direi che su 14.37 abbiamo aspettato qualche minuto, possiamo iniziare, quindi do ufficialmente il via a questo sesto webinar di questo ciclo di incontri che l'associazione GFOS.it ha deciso di organizzare assieme all'associazione GEAM per diffondere e informare in merito ad alcune tematiche relative al software geografico libero, free ed open source. Vi ricordo che come sempre questo ciclo di webinar che è iniziato a novembre e finirà nel mese di maggio del 2021 è organizzato da queste due associazioni con il supporto scientifico e culturale del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio delle Infrastrutture e del Politecnico di Torino, che ringrazio ovviamente. E così come mi preme veramente ringraziare il Master in G-Science, il sistema di pilotaggio remoto dell'Università di Padova, per metterci a disposizione questa piattaforma di videoconferenza. che, insomma, viste le numerosità di persone che hanno aderito i webinar precedenti, che hanno manifestato l'interesse di seguire quello attuale, insomma, ci permette una possibilità di interazione tra il relatore o i relatori e le persone che, insomma, vogliono intervenire e interagire. Sulle modalità di interazione lascerò poi la parola a Roberto, in modo tale che sia lui a decidere come poter interagire. Vi ricordo due cose. La prima è ovviamente di mantenere i microfoni spenti e le webcam disattivate. Se avete qualche domanda, vi suggerirei di scriverla nella chat, in modo tale da poterle raccogliere noi e poi, nel momento in cui Roberto, che è il relatore di oggi, ci segnalerà, insomma, gliele porremo. Se la domanda dovesse essere complicata, visto che non ci sono mai stati problemi di comunicazione o di interruzioni, credo che l'intervento orale possa essere sicuramente apprezzato, soprattutto per esplicitare magari dei concetti non semplicissimamente esprimibili tramite chat. Vi ricordo anche che, come sempre, questi webinar sono gratuiti, però le donazioni e le iscrizioni sono sempre ben accette ad entrambe le associazioni, sia l'associazione GEM, sia l'associazione GFOS.it. Le donazioni, soprattutto, ci servono per fare sì che questi eventi possano essere portati avanti, continuati, e, insomma, si possa continuare a fare anche supporto al software geografico libero, free ed open source, nelle sue varie modalità. Vi ricordo e vi informo che il canale dell'associazione GFOS.it è stato attivato e quindi è a disposizione sul canale YouTube dell'associazione la registrazione del primo webinar che facciamo nel mese di novembre 2020, per cui, qualora foste interessati a rivederlo, vi suggerisco di andare a cercarlo sul canale YouTube dell'associazione e quindi di potervelo riguardare. E a mano a mano che, appunto, i video saranno processati, saranno tutti i webinar messi a disposizione, così come quello di oggi, per cui, essendo registrato, la partecipazione vostra a questi webinar implica il fatto che voi accettiate la possibilità che il vostro video o la vostra voce o quanto voi scriverete in chat possa essere divulgato poi anche tramite la modalità di ricondivisione della registrazione. Vi ricordo ancora una cosa, brevissima, che sul sito dell'associazione GFOS.it trovate le modalità per poter effettuare le donazioni. Non voglio rubare ulteriore tempo, anche perché Jacopo mi ha già tirato le orecchie in chat, voglio lasciare lo spazio al relatore di oggi, che ringrazio, che è Roberto Marzocchi, che ci presenterà un webinar dal titolo, dal progetto QGIS al Web, pubblicare le analisi territoriali con QGIS Server e l'ISMA, e funzionalità di editing online. Quindi una parte molto interessante che segue un filologico che abbiamo iniziato con i primi webinar e che oggi focalizzerà soprattutto l'attenzione sugli aspetti di editing online del dato. Il relatore Roberto Marzocchi, che immagino conosciate tutti, è un ingegnere civile che si è laureato nel 2008 proprio con una tesi in ingegneria idraulica e GIS, e ha proseguito la sua formazione con un dottorato in geoscienze presso l'Università di Lausanna. Attualmente è uno dei leader... Pablo, non ti si sente più? Infatti, ah ok, temevo di essere io invece. Il telefono ha il... È stato sabotato dai miei colleghi quando ha detto... Stava esagerando... E infatti... ...dell'oratore. Dai, prendi... Vado... Vedete il mio schermo nel frattempo? Sì. Allora, sì, tanto stava... Direi che aveva concluso... Che Pablo ha concluso la presentazione, anche stava esagerando nella presentazione appunto del sottoscritto. E buon pomeriggio a tutti. Allora, appunto il titolo di oggi, del webinar di oggi, è stato detto. Brevissimamente vi dico le tre parti, chiamiamola così, in cui vorrei suddividere il webinar di oggi. Allora, la prima parte, replicheremo un po', non so se qualcuno di voi aveva già seguito il webinar fatto quest'estate di introduzione, cioè il titolo era praticamente molto simile, e nella prima parte replicheremo un po' quello che ho visto già a quest'estate, cioè faremo l'introduzione agli strumenti per capire cos'è QG Server, cos'è Nismat e Word Client, e poi proveremo a metterle in pratica il tutto con un piccolo esercizio in cui tenteremo di pubblicare un semplicissimo progetto QGIS che svilupperemo tutti assieme. Nella seconda parte, poi la seconda parte che a sua volta suddivido in due sottocategorie, cercheremo di focalizzarci, come promesso nella descrizione del webinar, sull'editing online tramite Nismat. E quindi torneremo, dopo aver fatto un po' di pratica, ovviamente magari nel frattempo rispondendo a domande di un più altro. Proveremo a dire qualcosa di nuovo un po' più teorico su come Nismat gestisce i permessi, perché ovviamente l'editing online si porta dietro anche tutta questa, una discussione relativamente a utenti, gruppi di utenti, reposizioni, eccetera, eccetera. Quindi faremo di nuovo un excursus un po' più teorico, nulla di preoccupante, nulla di particolarmente noioso, spero. Nelle slide che vi farò vedere sarà una slide, quindi non molto di più. E poi nell'ultima parte del tempo a nostra disposizione vedremo proprio un esempio implementato tra ieri sera e stamattina, un esempio, spero carino, spero interessante, di editing di dati su Nismat. Da un'idea che mi ha suggerito un nostro cliente proprio ieri pomeriggio, quindi tutto quanto in diretta, stavo cercando l'ispirazione su, spavere un esempio interessante, e ieri pomeriggio ho trovato un'ispirazione carina, spero, almeno queste sono le mie specie. e mi stavo presentando appunto Paolo quando è caduta la linea e stavo forse dicendo che appunto lavoro in GTR, che è questo spiegelato all'Università di Genova, e ci tengo a dirlo anche perché la presentazione che vediamo è un po' tutto il lavoro, in realtà non è solo lavoro mio, oggi mi prende i meriti e i complimenti, ma lavoro che è possibile anche e soprattutto grazie alle mie due colleghe che mi supportano appunto in quella che è il settore dei sistemi informativi territoriali all'interno appunto della nostra azienda, che sono appunto Rossella Abrusino e Roberta Fagandini, quindi sono coautrici, anche se non presenti di questo pomeriggio, sia di questa presentazione che un po' di tutto il lavoro. Allora, diciamo che il... avrete ovviamente, scusate, prima di partire con le slide, che scorderò anche abbastanza velocemente, non preoccupatevi dal numero anche alto di slide, due precisazioni tecniche, allora, le slide le avrete durante il webinar stesso, nel senso che a un certo punto arriveremo a quella che si chiama esercitazione e vi farò accedere a uno spazio web, poi vi spiego tutto, in cui trovate, subito troverete le slide e poi verranno comunque condivise sulla pagina della società di GeForce, quindi non preoccupatevi, diciamo di prendere appunti, però tutto il materiale verrà tranquillamente ricondiviso, ripeto, ce l'avrete anche prima della fine del webinar. ovviamente io controllo due schermi, da una parte controllo la chat o altro, comunque direi che magari in certi momenti mi fermo e provo a leggere la chat o altro, poi mi supporteranno appunto Stefano e gli altri presenti, ma benvengano domande, curiosità, dubbi, fermatemi quando dico qualcosa di poco chiaro o altro, non preoccupatevi più, lo dico sempre, più ci sono delle interazioni, meglio viene il tutto, diciamo che è anche più piacevole per il relatore, diciamo che uno, forse l'unico difetto dell'online è proprio il fatto di non vedere, lo dico sempre, le persone che si hanno di fronte, che si ha di fronte, quindi non poter sapere se quello che si dice risulta chiaro o meno e quindi sfruttiamo la chat e eventualmente per bloccarmi, per fermarmi, ovviamente non la riesco a controllare, siamo in tanti, quindi non riuscirò a controllarla ogni secondo, ma faremo il possibile. Cominciamo appunto dicendo, entrando invece più nel vivo degli aspetti, chiamiamoli teorici, ma con cui vi annullerò leggermente nella prima parte, spero appunto non troppo, cos'è, cosa sono QG Server e gli eSmap? Sono degli strumenti per pubblicare dei dati geografici su web, e perché pubblico, cioè il fatto di pubblicare i dati geografici su web è qualcosa che recentemente ha preso molto piede, ci tengo sempre a partire nella presentazione con OpenStreetMap, che è un progetto di cui si è già parlato e si parlerà credo ancora in altri webinar e su cui non entriamo, un progetto ovviamente molto interessante, che sicuramente mi piace molto, devo ai me anche citare il progetto che conoscono tutti, non entro ovviamente nel merito del cosa è uno, cosa è l'altro, quali sono le differenze, ma è il progetto che anche mia madre, anche a cui ovviamente fischiano le vecchie ogni webinar, ogni intervento di questo tipo, anche mia madre conosce, quindi è uno strumento, è uno strumento per la maggiore Google Maps con cui tutti noi ogni giorno, anche chi non si occupa appunto di dati geografici, si trova a confrontarsi per recuperare delle informazioni, che possono essere dove è il negozio più vicino che vende quel tipo di oggetto che mi serve. Questo è un tipo di informazione geografica che ci permette appunto di capire come l'informazione geografica su web sia estremamente importante da un punto di vista in quel caso commerciale, ma non solo commerciale. E ovviamente ho citato Google Maps, ma ci sono altre tante soluzioni sempre commerciali, altre colative, non è lì, ma non solo. Quello che vorrei provare a fare in questa prima parte è introdurre alcuni concetti teorici, non molti, che spero permettano di capire un po' meglio, tanto di seguirmi meglio, cioè quando parlo di cos'è, o di servizi web mess, servizi web fers, cercare di tradurre e far capire cosa sono. Quindi anche spero di utilizzare meglio poi QG Server, che come vedremo poi semplifica, ci permette, ovviamente ci arriveremo, di semplificare moltissimo il processo di pubblicazione dei dati su web, a partire appunto da un progetto QGIS, quindi da uno strumento Dextro, perché più o meno tutti noi, immagino, molti di voi, o almeno, che vi siete iscritti a questo webinar, già conoscete, già utilizzate comodamente. I geoservizi sono tutta quella famiglia di servizi web, quindi servizi che sfruttano il, sfruttano server, cioè un'interfaccia server client, comunque viaggiano sulla rete, che consentono di interagire con i dati geografici, interagire in diversi modi. Quelli che vedremo oggi, perché l'argomento di oggi è la pubblicazione del dato, hanno un andamento unidirezionale, cioè il dato è da qualche parte, in qualche geografica, in qualche server, e il dato viene reso fruibile a degli utenti. Quindi c'è un, quello su cui ci concediamo oggi potrebbe essere, era molto più semplificato rispetto a questo schema, e riguarda appunto una freccia unidirezionale tramite il web dei dati che vengono pubblicati agli utenti. In realtà all'interno dei geoservizi c'è molto di più. C'è anche la freccia inversa, cioè i dati, per esempio, che dai sensori tornano indietro sul mio database, quindi ci sono tutta una serie di geoservizi che riguardano i sensori, e poi c'è tutta una famiglia sempre di geografici che riguardano anche la possibilità di fare del processamento di dati e consentire, in questo caso, all'utente di ottenere qualche informazione ulteriore. Quello che vedremo oggi sarà una pubblicazione del dato, ossia ho dato delle strade, ho dato alcuni palazzi storici e lo faccio vedere all'utente finale, ho il mio piano lavoratore, lo faccio vedere all'utente finale, ho il mio piano, la mia carta geologica, la voglio far vedere all'utente finale. gli do uno stile, la coloro, gli do una leggenda, la rendo fruibile. In realtà, si può fare anche qualcosa di più, si potrebbe, con i geoservizi si possono fare anche altre cose, per esempio, implementare una funzione GIS e non pubblicare semplicemente un dato di partenza, ma pubblicare un'elaborazione fatta a partire dal dato di partenza. Questo in generale, anche se come detto oggi, voi per le ore a disposizione, voi per l'argomento, come sempre appunto, vedremo di sfuggita a altre tematiche, abbiamo parlato prima del PCMAP su cui siamo entrati, ci concentreremo su una piccola parte, forse la più banale, la più semplice tra le parti che riguardano i geowabservice. Abbiamo detto cos'è un geowabservice e già ci rendiamo conto che non è quello che è un'altra parola chiave di oggi, cioè WebGIS. Il WebGIS è il prodotto finale che mette assieme alcuni geowabservice. La mappa finale che tradurremo oggi tramite QG Server e tramite LeastMap WebClient è appunto un WebGIS, sarà appunto un WebGIS, cioè il risultato finale. Il WebGIS è il prodotto finale, la pagina web interattiva che presenta un innegabile vantaggio rispetto al GIS desktop, cioè fornire all'utente finale una pagina che non richieda l'installazione di nessun software e soprattutto che abbia una serie di funzionalità molto semplificate e che quindi oltre a non richiedere l'installazione di software non richiede nemmeno competenze altamente specifiche. il WebGIS deve essere possibilmente utilizzabile da chiunque l'obiettivo è sempre arrivare a un prodotto più vicino poi è chiaro che dipende dalla funzionalità del WebGIS ma il più vicino possibile agli esempi che facevamo prima Google Maps OpenStreetMap BingMap tutte le mappe di tipo commerciale o simili e questo è l'obiettivo del WebGIS ovviamente il WebGIS come abbiamo già detto si basa su questi geoservizi geoservizi che grazie all'OpenGIS Spacer Consortium sono stati catalogati raggruppati e si è creato quello che si chiama uno standard qual è l'utilità dello standard? L'utilità dello standard è che quel che il geoservizio standard quindi che rispecchia una certa tipo di architettura tendenzialmente può parlare con diverse piattaforme caso più frequente oggi parleremo di web service e arriveremo a definire il WMS che penso sia quello più conosciuto da molti di voi già conosciuto da molti di voi WMS è una modalità con cui dei dati vengono pubblicati su web il WMS è uno standard cosa vuol dire uno standard? è che una volta che io ho un servizio WMS lo posso visualizzare su mio webGIS ma lo posso anche visualizzare su QGIS se mi interessa solo visualizzarlo su un GIS se non mi piace QGIS e preferisco utilizzare GWSIG lo posso utilizzare visualizzare lo potrò visualizzare su GWSIG se non mi piace mi voglio scegliere un'alternativa commerciale posso visualizzare lo stesso WMS con Nargis Geomedia AutoCADMap quello che volete scendete voi sono strumenti che non conosco più di tanto né il WSIG né gli altri ma con quel tipo di strumenti quindi con qualsiasi il vantaggio di utilizzare degli standard è quello che per certi in altre parole in altri termini con altri termini spesso si sente dire interoperabilità cioè la possibilità di utilizzare strumenti diversi di essere effettivamente liberi di utilizzare uno strumento che più ci piace quindi non è un vezzo diciamo che messa così spero che si capisca che non è che un utilizzo delle standard è un vezzo di di un ingegnere architetto di un dottore antipatico che vuole complicare le cose quindi ci mette dentro lo standard perché in questo modo la cosa sembra più più figa diciamo così in realtà è è un vantaggio perché proprio porta si porta dietro una libertà di utilizzo di strumenti abbastanza abbastanza importante e abbiamo detto che appunto il geoservizio è una parte del webgis vado a questo schema il geoservizio cioè un webgis scusate in realtà ha bisogno di alcune componenti abbiamo detto abbiamo detto prima che ha bisogno della creazione di un geoservizio chi è che si occupa della creazione di un geoservizio gli elementi uno e due serve un database cioè da qualche parte che può essere anche una cartella dove salvare un file oppure può essere un geodatabase su server come cospis oppure può essere un file SQLite ci possono essere varie possibilità più o meno complesse ma comunque serve uno spazio dove memorizzare delle informazioni di vario tipo anch'esse che rispettano degli standard tanto per tornare a discorsi precedenti un software che chiamiamo application server e qua cominciate a vedere un nome che richiama il titolo del webinar di oggi che è QG server che crea questi geoservizi e poi un'interfaccia client nelle interfacce client citate in questa slide manca quella in questo caso forse il mio errore manca in realtà perché è sviluppata su queste perché è un'evoluzione di queste interfacce più semplici ancora l'eismap l'eismap è un'interfaccia client che come vedremo dopo consente appunto di creare ci consentirà di arrivare al nostro weblist che appunto come detto è l'obiettivo finale di oggi anzi non finale spero l'obiettivo intermedio di oggi spero di arrivarci fra un'oretta o poco più a metterlo in piedi di arrivare a far sì che tutti noi che tutti voi abbiate provato a a vederlo e siano in grado di metterlo in piedi abbiamo già detto appunto vado abbastanza velocemente tanto appunto queste slide le ritrovate ora proviamo a vedere tre i tre principali web service che che vengono utilizzati non tanto perché come ho detto voglio annoiarvi eccessivamente oggi pomeriggio quanto perché poi sono dei nomi che per creare il nostro nostro webgis dovremo utilizzare e vedere all'interno di QGIS in particolare delle proprietà del progetto QGIS la prima famiglia è quella del WMS cioè web web service che ripeto penso diciamo che siamo un po' tanti per fare un sondaggio ma credo che molti di voi potrei azzardare che il 90% di voi ha già sentito parlare e probabilmente sa anche di cosa si tratta e poi ci sono WFS e WCS di cui forse su cui forse le percentuali si deducono magari non il 90% qualcuno o meno di voi sa di cosa si tratta ma che probabilmente appunto qualcuno di voi sa già quindi chiedo scusa per chi per le persone alle quali quello che dirò sarà una ripetizione e vado a questo schema che luce abbastanza bene piuttosto bene cos'è un WMS si parte da quello che qua viene chiamato una richiesta parametrizzata cos'è una richiesta parametrizzata perché è un nome che per certi versi può essere altissonante è quello che potremmo chiamare come un indirizzo web perché non hai chiamato un url meglio ancora più che indirizzo web un url un url cioè un link che poi farà quel link che è da caricare sul mio software GIS oppure su oppure da utilizzare all'interno del web GIS contiene una serie di parametri normalmente sono appunto prima l'ho chiamato erroneamente indirizzo web normalmente c'è un indirizzo web che cosa indica indica il primo parametro cioè mi indica dove risiedono i dati se voglio consultare un dato dell'infrastruttura dati territoriale della regione veneto per fare un esempio visto che ne ho parlato questa mattina al telefono e che siamo ospitati all'università di Padova parliamo del veneto se voglio per esempio visualizzare un WMS dell'infrastruttura territoriale della regione veneto probabilmente quell'url lì partirà con un indirizzo web che punta ai server di regione veneto poi siano in regione che siano fornamente a Venezia che siano in cloud da qualche altra parte in Italia del mondo questo non lo so e non ci interessa comunque mi dice dove devo andare a cercare i dati dopo oltre all'indirizzo web che è il primo parametro già quello è un parametro ci sono poi un'altra serie di parametri che mappa voglio vedere con quale stile la voglio vedere a quale livello di zoom lo voglio vedere quindi io do in pasto al web via web visto che si tratta di un web service do un indirizzo web all'interno del quale ci sono una serie di parametri sostanzialmente c'è l'indirizzo della pagina a cui collegarmi poi c'è un punto interrogativo e poi ci sono una serie di parametri collegati uno all'altro da una e commerciale normalmente sono tutte le richieste che vengono date in pasto al server quindi spero di aver chiarito di cosa si tratta cos'è quella richiesta parametrizzata io da questa parte quindi ci siamo noi c'è l'utente finale da questa parte c'è facciamo l'esempio di prima l'infrastruttura dati territoriali di regione reddito quindi io tramite web inserisco sulla mia sulla mia casellia di QGIS la mia richiesta parametrizzata dall'altra parte dentro il server di regione reddito in base alla mia richiesta cosa succede? succede che verranno prelevati i dati che io richiesto ho chiesto di visualizzare la carta tecnica regionale e poi verrà visualizzato uno stile un certo stile quindi un file che applica uno stile quello che mi viene restituito è un'immagine renderizzata cioè un'immagine colorata opportunamente con lo stile associato che ha deciso in questo caso regione reddito ovviamente non sarà un'immagine di Lugano di regione reddito questo ma da sé è un'immagine vestita di quello che ho chiesto quindi ho fatto un esempio a voce e un altro per a testa quindi viene restituita sostanzialmente questa immagine che è fatta che allora se fosse un vormesse e basta un'immagine in realtà nemmeno che non sarebbe nemmeno interrogabile ossia un'immagine solo visualizzabile in realtà molto spesso i vormesse non sono anche dei vormesse che consentono hanno poi delle opzioni aggiuntive arrivai i WMS transaction WMS T e sono anche interrogabili quindi è un'immagine tenderizzata quindi sono una serie di PNG che possono essere suddivise o bene in tile in certi casi interrogabili ma che non sono più il dato di partenza per spiegarmi che il dato se il dato di partenza fosse un dato di tipo vettoriale pensiamo che il dato di partenza siano le strade io col WMS le strade le vedo come vuole in questo caso se torniamo ad esempio di prima come vuole farmela vedere la regione Veneto posso interrogarle ma non posso elaborarle non posso scaricare non posso farci nulla vedo un'immagine delle strade questo è il WMS non posso farci ricerche sopra la domanda classica da un milione di dollari che mi viene che viene sempre fatta è ma il WMS che precedo perché immagino che qualcuno di voi sicuramente me l'avrebbe fatta di qua alla fine della relazione di oggi ma se ho il WMS dell'agenzia delle entrate il famoso WMS con i dati catastali posso fare una ricerca per particella su quei dati no perché il WMS mi renderà posso interrogarli cioè se io ho la particella la interrogo leggo quello che l'agenzia dell'entrata ha pubblicato quindi leggo delle informazioni però non posso fare una ricerca di dati a partire dal WMS non posso fare nessun tipo di ricerca dati questo è quanto il WMS è un altro tipo di standard lo schema è abbastanza simile non sto a ripetere di cosa si tratta della ricerca parametrizzata perché spero di avervi ammigliato abbastanza sufficiente ma spero anche di essere stato abbastanza chiaro vedete che la richiesta va sempre per scala dei dati ma anche un elemento che è lo stile e quello che viene restituito in questo caso quindi è se torniamo ad esempio le strade vengono restitute le strade come vettoriale questo vuol dire che non le vedo colorate bene passatemi il termine cioè non da un certo punto di vista ho qualcosa in meno ma ho molto in più nel senso che ho il dato vero e proprio anche il WMS può essere visto a tutti gli effetti come un infatti come uno strumento anche di download del dato addirittura il WFS è anche uno strumento con cui si può non il WFS base ma il WFST transaction è anche uno strumento che può consentire l'editing del dato geografico quindi io tramite il WFS posso anche andare a modificare il dato geografico ovviamente tutti i servizi possono essere servizi pubblici o servizi privati ad accesso profilato a seconda di quello che viene che viene deciso e richiesto dal gestore del dato geografico quindi consente molto di più se rimaniamo in ambito web oltre al download una delle possibilità che vedremo nel web Gis realizzato con QGis per Elix ma anche quella di consentire a degli utenti profilati o pubblicamente a seconda della scelta dell'utente consentire anche il download del dato oltre al download però ci sono anche tutta un'altra una serie di funzionalità che come vedremo si possono fare attivando dicendo a QG server quel layer lì voglio che venga pubblicato anche come web feature service che funzioni sono la ricerca facciamo prima l'esempio del servizio WMS dell'agenzia delle entrate catastale con quel servizio lì io non posso fare una ricerca posso visualizzare ma non posso farci le ricerche con un avendo il dato vettoriale creando il WFS quindi non sto dicendo che bisogna avere il WFS avendo quel dato il dato vettoriale si può fare molto altro cioè fare la ricerca visualizzare le tabelle attributi si può fare l'editing e tutta una serie di anteriori che come vedremo richiedono appunto la pubblicazione del dato come WFS oggi ecco ci tengo a precisare io sto facendo qualche esempio che è molto orientato alla richiesta di dati l'obiettivo di oggi l'obiettivo di oggi in realtà è crearli questi WMS e questi WFS quindi oggi vedremo non tanto come fruirne quello penso immagino che già lo sappiate ovviamente poi se ci sarà qualche domanda qualche dubbio quali curiosità possiamo quando ci vuole veramente poco possiamo anche vedere come 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 si possono caricare WMS WFS e QGIS l'obiettivo di oggi è vedere appunto come crearli questi servizi il WCS sul WCS non c'è lo schema ma sarebbe un qualcosa del tutto analogo invece che il dato vettoriale il WCS restituisce un coverage cioè un dato raster quindi è l'analogo del WFS per i dati di tipo raster quindi immaginate di avere un DTM fornire il WCS significa che io fornisco un dato che è eventualmente scaricabile ma oltre e più che scaricabile anche utilizzabile per farci delle elaborazioni sopra chiaramente va da sé che WFS e WCS sono anche servizi un po' più pesanti rispetto al WMS chiedono delle richieste in più poi c'è una serie di altri web service che scorrono velocemente e un elenco di portali che offrono i servizi WFS ma che non poi non aggiorano nemmeno di volta in volta si potrebbe dire che ormai qualsiasi geoportale normalmente mette qualsiasi geoportale fatto recentemente non è da dire ma che raggiunga cioè direi che raggiungerebbe la sufficienza scarsa non raggiungerebbe la sufficienza scarsa un portale che non metta a disposizione un qualche servizio web e si vede ancora i geoportali o almeno così definiti che pubblicano piani o carte in pdf ma non dovrebbero essere definiti i geoportali scusate la la piccola polemica ma appunto un geoportale praticamente tutti i geoportali che possano vantare questo nome dovrebbero avere appunto dei servizi web pubblicabili normalmente come trovarli come cercarli poi varia da portare a portare normalmente appunto la parola servizi servizi web web service quella parola è una parola più chiave da utilizzare nel momento in cui si vogliono appunto andare a ricercare dati di quel tipo lì qua avete appunto dicevo che non vorrei soffermarmi avete anche un'istruzione di come caricare dei servizi dei geoservizi su QGIS per esempio veniamo a come realizzarli e beh i web service si possono realizzare con quello che è un application server che è un software appunto che va installato su una macchina server e che ci consente appunto di creare questo software service quali sono le soluzioni in ambito open source l'ordine sono andato in ordine alfabetico avrei dovuto più che un ordine alfabetico andare in ordine cronologico e il primo direi il primo application server primo esempio di application server in ambito open source ma oserei dire che peraltro l'open source nell'ambito di application server fa da padrone anche le soluzioni commerciali siccome poi sono basate anch'esse su web server vengono spesso rilasciate devono non solo per scelta commerciale ma devono essere comunque rilasciate con licenza aperta con licenza open la prima appunto il primo application server è stato un app server è un ottimo software mi piace molto facilissimo da installare c'è un pacchetto sulle principali distribuzioni server linux considero ma penso che ci sia anche un analogo per i server windows molto facile da installare la configurazione anche veloce semplice rapida ha un problema non da poco è il classico software che io definisco un po' da nerd qualsiasi cosa io voglio fare come app server devo farla scrivendo uno script cioè voglio pubblicare dei pallini rossi con un quadratino rosso che rappresentano i punti delle mie sorgenti del mio comune un esempio di pubblicazione web estremamente semplice che si potrebbe fare su google maps creando un kml beh su map server per questi pallini rossi senza un stile particolare devo comunque crearmi un map script un map script estremamente semplice c'è uno scriptino molto semplice poche righe di codice comunque devo fare tutto da file di testo chiamiamoli così poi sono i piccoli script che vanno messi nelle cartelle opportune vengono lette da map server quindi negli anni diciamo che è partito negli anni poi si sono sosseguiti tutta una serie di tentativi molti dei quali di creare delle interfacce grafiche per map server dopodiché c'è uno di quelli peraltro è il prodotto di cui parleremo oggi che qua chiamo ancora col vecchio nome QGIS map server un altro ve lo anticipo è ArcGIS map server che credo si chiami non conosco bene ma credo si chiami ancora ArcGIS map server che di fatto è basato sempre su questo su questo motore e poi c'è un'altra famiglia anch'essa open source che invece diciamo è un prodotto a tutti gli effetti parallelo altro altri linguaggi altro comportamento che si chiama geoserver è un'altra soluzione rispetto a map server ha un grande vantaggio ossia avere l'interfaccia grafica avere un'interfaccia grafica che consente di modificare una parte di informazioni utilizzando appunto l'interfaccia grafica stessa ad esempio per rappresentare dei punti rossi il tutto è molto più semplice e riesco a fare tutto dall'interfaccia grafica da dove poi devo andare e comincio magari a voler definire qualche stile un po' più complesso allora gli fai gli stile magari li devo li dovevo poi di fatto ormai gli strumenti che mi semplificano in passato gli dovevo quelli sì scrivere scrivere come file di testo però il fatto di avere un'interfaccia grafica è un grande vantaggio poi ripeto a partire da web server negli anni sono stati fatti tutta una serie di tentativi si è arrivato a QGIS web server cioè un software basato sempre come motore dietro poi ormai parallelo anch'esso nel senso che però il punto di partenza è stato appunto web server come motore motore inizialmente CGI ormai fast CGI che consente appunto di pubblicare dei dati da cosa perché la parola QGIS perché a differenza di map server a differenza di geoserver la creazione del servizio web master la creazione del servizio web master si ha a partire da un progetto QGIS questo cosa comporta comporta che da un certo punto di vista io ho ho bisogno di un livello in più quindi probabilmente dal punto di vista puramente prestazionale cioè se noi andiamo a fare un benchmark che vengono a faccia insomma un'analisi su una stessa macchina che sempre poi è molto complessa di vari prodotti probabilmente perde un po' QGIS server come anche un prodotto di questo tipo perde un po' a livello di prestazione almeno se è confrontato con web server confrontarlo con web server secondo me è abbastanza complesso nel senso che web server è un prodotto basato su java scritto in java in un altro linguaggio di programmazione utilizza altri web server quindi si basa su web server tipo Apache o NGINX per cui fare dei confronti non visti fatti in letteratura ma nel modo di vedere abbastanza complicato nel senso che poi dire che un prodotto va meglio dell'altro io non sono così certo che sia dovuto al prodotto in sé quanto piuttosto alla configurazione del web server tra map server e QGIS server probabilmente il confronto invece si potrebbe fare perché diciamo partono veramente dalla stessa da uno stesso strato da uno stesso livello e probabilmente da livello puramente prestazionale QGIS server perde qualcosa a livello di velocità di restituzione di dati abbastanza inevitabilmente perché per visualizzare il dato un web server si collega direttamente al dato alla tabella allo shape file alla tabella postis a quello che volete QGIS server non si collega per visualizzare il dato non mi collego al dato direttamente ma mi devo collegare da un punto di vista proprio informatico mi devo collegare al progetto QGIS quindi c'è un stato in più banalmente devo leggere un file con molte più righe semplificando il più possibile che poi non è molto verso la realtà e quelle cose qual è però l'enorme vantaggio che ha QGIS server è che leggo sì dal file e questo può essere un minus così dal punto di vista informatico ma il fatto di leggere dal file significa che quello che io dal punto di vista dell'utente quello che io implemento sul mio progetto QGIS lo vedo automaticamente pubblicato su web e questo è un vantaggio enorme cosa vuol dire vuol dire che se torniamo all'esempio di prima che qua comincia a diventare un po' poco sensato i pallini rossi pubblicati non ci metto niente e soprattutto non ci metto niente anche a pubblicare i miei pallini classificati con la mia classificazione è fatta bene che sfrutta il mio campo dove ho il valore da utilizzare per la classificazione cioè se io ho le mie strade da classificare in un certo modo sulla base della classe tecnica funzionale per esempio piuttosto banale e io le mie strade me le classifico e me le posso pubblicare in maniera come la classifico con QGIS me le rendo editabili o meno ok e le pubblico in maniera estremamente rapida questo è il principale vantaggio di QGIS server cioè avere mi sono accorto ora che siamo ancora alla visualizzazione non a schermo intero quindi posso allargare un po' di più non che si veda molto molto di più quindi il vantaggio di QGIS server l'abbiamo già definito e in questo schema lo spieghiamo ancora meglio appunto si parte sempre da un dato con QGIS server si applicano gli stili si definisce eventualmente le auto di stampa e via discorrendo c'è uno strato che poi di fatto l'utente non vede nemmeno che è QGIS server che crea non vede o quasi come vedremo poi nell'esercizio che facciamo che faremo assieme è uno strato che vado poi a controllare dalle proprietà del progetto QGIS di fatto ma su cui io non devo mettere mano ci pensa il server ci pensa lui e poi ci deve essere un client per la pubblicazione del dato biografico client a disposizione in questo momento ce ne sono almeno tre non escludo che ce ne siano anche altri questi tre sono quelli che noi conosciamo che non conosca e sono quelli un po' più diffusi e sono soprattutto quelli sicuramente tutti e tre rilasciati più o meno in parte totalmente o in parte con licenza aperta con licenza open e sono questi tre l'ITMAP che è quello su cui ci concentriremo oggi la G3 Votopio Suite e QGIS Web Client ormai QGIS Web Client è più corretto dire versione 2 c'era un QGIS Web Client anni fa che ormai è un progetto piuttosto abbandonato perché ha il difetto di spostare abbiamo semplificato tutto ma poi la configurazione di QGIS Web Client andava fatta con degli script JavaScript ed è chiaro che semplificare tutto per poi arrivare a dover modificare con degli script il client era una criticità QGIS Web Client viene utilizzato da alcuni plugin di QGIS per pubblicazioni su web attualmente c'è una versione 2 di QGIS Web Client che è rilasciata a questa sicurezza per source la tengo monitorata devo dire la conosco non benissimo così come la ditteremo di QSuite diciamo che a differenza di l'ISMAP e il client spostano la parte di entrambi i prodotti diciamo con filosofia spostano la parte di configurazione del progetto web su web l'ISMAP ha invece un approccio leggermente diverso e c'è ovviamente un client che va installato da qualche parte su un server dopodiché utilizza a differenza degli altri due un plugin di QGIS con il quale come vedremo si crea un file di configurazione che è tutto che è tutto da interfaccia grafica ovviamente che crea un file di configurazione che se copiato opportunamente dove poi vi spiegherò sul server mi permette di vedere il mio WebGIS quindi ricapitolando QGIS Textor QGIS Server ho e un client per pubblicare i dati poi parleremo definiremo meglio cerchiamo di definire meglio dove sta il plugin QGIS che comunque sta a questo livello cioè sta a livello QGIS Textor il succo è quello che vedo sul mio progetto lo vedo pubblicato questa slide è piuttosto vecchia questo ad esempio era l'interfaccia di quel prodotto che ho detto non viene attualmente abbandonato che era QGIS WebClient versione 1 diciamo che era così che poi poteva essere personalizzato non ricordo se su queste slide ne abbiamo un esempio fatto un po' di anni fa dove era venuto non fatto da me ovviamente fatto dalla mia collega Roberta dove era venuto veramente un bel lavoro personalizzato bene con tanto di log che era venuto davvero davvero bello bello però tutto personalizzato diciamo con competenze di programmazione su web abbiamo detto appunto integrazione totale con QGIS desktop e i vantaggi li abbiamo detti qua abbiamo già parlato e trovato un po' di riferimenti sui vari prodotti e su come l'abbiamo gestiti già detto prima questa è un'interfaccia personalizzata rinnovata da pochi giorni quindi non è già più è leggermente cambiata perché siamo passati da l'interfaccia leggermente personalizzata a noi di web client il cui codice sorgente si trova su GitHub a questo link due parole sono tutti prodotti open source due parole su questo prodotto in particolare è un prodotto sviluppato prevalentemente da un'azienda francese che si chiama Prelitz è un'azienda che sviluppa anche altri plugin per QGIS molto attiva nell'ambito della comunità QGIS vi parlo di questo perché sicuramente è il prodotto che noi conosciamo meglio su cui lavoriamo su cui cerchiamo anche di contribuire per quanto possibile è il è un prodotto effettivamente con un'ampia comunità tra i tre che vi ho citato mi sembra quello che attualmente poi tutte visioni che vengono modificate diciamo di mese in mese di anno in anno ma anche quasi di mese in mese attualmente è quello che ha a mio modo di vedere una comunità dietro un po' più ampia ovviamente non è appunto l'unico e poi non escludo che fino a pochi anni fa nella slide precedente si parlava di Leedsmap e TQG su web client quindi G3W suite è un prodotto relativamente nuovo relativamente moderno quindi come dicevo prima cambia veramente di anno in anno per cui non escludo che magari fra un po' possa invece le mie suppiantate o altro in questo momento è quello con una comunità leggermente più ampia trovate appunto il codice sorgente su questa pagina di GitHub si possono ovviamente verificare aprire eventuali issue nel caso in cui si trovino delle problematiche e fare il test o altro c'è attiva anche su Transitex tutta la parte di traduzione del progetto Leedsmap come c'è la traduzione di QGIS e la nostra comunità italiana che ovviamente è fantastica vorrei sempre ogni tanto contribuire un po' di più ma a parte qualche spinga di cose ci facciamo veramente poco ma la nostra comunità di traduttori italiani ha tradotto anche quasi completamente ha tradotto completamente QGIS almeno nella versione attuale LTR e anche su Leedsmap direi che siamo molto ben messi sia con l'intrafaccia sia con la manualistica come c'è il progetto Transitex di QGIS c'è anche il progetto Transitex di Leedsmap che aiuta appunto che è un altro modo con cui contribuire al software open source è un altro modo molto utile a volte si ha l'idea che per contribuire al software open source si debba a tutti gli effetti essere dei nerd sviluppatori che devono sapere essere bravissimi a programmare in realtà non è assolutamente vero è fondamentale segnalare eventuali problematiche è fondamentale potrebbe essere fondamentale contribuire alla traduzione e poi si può arrivare anche laddove è possibile allo sviluppo di codice vero e proprio ovviamente credo assolutamente ben accetto qua ci sono qualche piccola istruzione ma veramente molto semplice poi anche in una giornata peraltro mi rendo conto ogni volta che guardo le slide mi rendo conto degli errori che si parla di PHP 5 ma ovviamente siamo ormai ampiamente al 7 ormai è già uscito l'8 quindi e ovviamente lì insomma fa un altro su PHP 7 non spaventatemi a vedere questo 5 che è un errore semplicemente del relatore e comunque ho spiegato anche molto bene come installarlo veniamo quindi abbandoniamo abbandoneremo brevissimo le slide e veniamo invece a quella che sarà un po' l'esercitazione di oggi siamo in tanti ovviamente venire all'esercitazione io credo di aver aperta la chat giusta la chat corretta non vedo delle non mi sembra di vedere domande per ora se però ci fossero ovviamente che vengano e diciamo che siamo a un momento di stacco quindi se ci fossero posso diciamo che non abbiamo visto ancora granché spero che le non domande siano venute alla chiarezza non alla noia cestiva veniamo dicevo alla parte un po' più interessante più divertente proveremo a pubblicare una mappa su QGIS vi chiederò siccome siamo veramente in tanti tanto due precisazioni tecniche potete seguirmi io cercherò di non andare velocissimo necessariamente abbiamo quattro ore quindi non possiamo non possiamo fermarci veramente ogni secondo e quindi vedete voi come ha detto Pablo all'inizio tutto sarà registrato quindi tra qualche settimana lo troverete sulla pagina youtube dell'associazione di GFOS le slide le potete recuperare quindi se volete se riuscite potete seguirmi in diretta chi non ha voglia e chi preferisce mi può guardare e poi comunque la registrazione sarà disponibile e e quindi non perdersi nulla quindi non vedete voi io cercherò di darvi tutti gli elementi di qua alla fine di oggi avete anche questo purtroppo vi dovrò dare due nomi utenti e saranno due nomi utenti chiedo scusa diversi alla fine vi darò anche un nome utente per accedere a un database Postis e quindi potete trovarli sia ora sia poi nei ormai questo questo repository ogni tanto noi ovviamente lo ripuliamo ma questo repository ormai è attivo perché tradizionalmente al FosforG ormai oggi non ho ormai non ho nemmeno cambiato la password tradizionalmente alla FosforG facevamo perché quest'anno è un workshop dedicato all'Itsmap e quindi rimane attivo poi di tanto in tanto ovviamente lo ripuliamo e cancelliamo il marasma che si è creato dentro però non preoccupatevi che le cose che vedremo le potete anche fare in un secondo momento fare anche i giorni prossimi e rigiocarci di sporcarvi le mani quindi decidete voi se seguirmi o meno per chi volesse seguirmi vi chiedo di appuntarvi perché ovviamente non sarà faticoso tornare sempre niente di appuntarvi questo nome utente questa password che sono quelli con cui ora vi spiego che ci permetteranno di accedere a una cartella che ci serve per condividere dei dati col server qua anticipo già delle domande tanto vedo che è arrivata una domanda le modifiche che fate tramite un servizio UFS ovviamente sono modifiche fatte sul dato originale non sul dato locale cioè agire su la domanda scusate la chat la leggo per tutti una curiosità è se io prima ho parlato dei servizi UFS UFS e se io ho un servizio UFS di tipo T che quindi consente delle modifiche mi chiede Maria sono modifiche in locale o sul dato originale sono ovviamente modifiche sul dato originale cioè è un servizio che consente di editare i dati che io per esempio posso aver salvato su un database editare in maniera asincrona prego grazie grazie a voi delle domande perché appunto riescono la domanda di uno riesce a chiarire dei dubbi che secondo me spesso volentieri hanno magari per mia scarsa chiarezza hanno avuto altre persone che non hanno avuto il coraggio di fare la stessa domanda di questo e tornando a questa slide ed è stata anche l'opportunità come per chi volesse seguirmi in diretta di appuntarsi appunto nome utente password dicevo ci serviranno e dicevo che questo anticiperà una domanda ci serviranno per utilizzare uno strumento che è un possibile strumento ma non è assolutamente l'unico grazie Stefano che mi ha messo in chat effettivamente forse è la situazione migliore uno strumento ma vi dicevo non è l'unico per condividere dei dati col server anticipo già la risposta ad alcune possibili domande ma potrei usare anche una connessione SFTP cioè un qualche tipo lì assolutamente sì potrei usare un FTP assolutamente sì posso usare qualsiasi cosa tramite SSH cioè se poi il corso vuole essere ovviamente se sto dicendo delle cose che non comprendete non preoccupatevi ma per chi le comprende perché poi i vari workshop sono venute fuori anche queste domande ovviamente ci sono anche altri metodi qualsiasi metodo che mi consenta di condividere dei dati con un server o meglio col server dove ho installato il QG server va bene quello che useremo noi tramite questo nuovo utente questa password che ormai sono su sono su web è un 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 un'applicazione che si chiama Nest Cloud che ha un funzionamento è una funzione anche open source che ha un funzionamento simile a Dropbox che credo sia uno strumento che molti di voi di nuovo alzardo le mie percentuali sui partecipanti ai webinar il 90% di voi probabilmente conosce utilizza Dropbox comunque è uno strumento che consente di sincronizzare dei file col server il vantaggio è che è estremamente semplice risprimo parlato di FTP di SFTP di SSH di di altri strumenti dicevo molti di voi probabilmente si stanno già perdendo e ho detto non preoccupatevi il vantaggio di Next Cloud è che è relativamente semplice cioè da installare si scarica un eseguibile oppure se lavoro su Mac o su Linux comunque si scarica un binario un file binario non so come si chiamano un file binario diciamo un file già compilato diciamo così così non mi impattino perché non evidenzio le mie lacune sui sistemi per attivare Apple e si scarica si installa e poi si deve semplicemente configurare e accederci tramite questo indirizzo qua appunto che è l'indirizzo del nostro server e configurare con un utente password ora ci arriveremo faccio un secondo un passo indietro quindi cos'è noi facciamo questa situazione su un server dove è già stato installato QG server perché se dovessimo metterci a vedere l'installazione di QG server l'installazione di Giz ma probabilmente non basterebbe pomeriggio ora in realtà poi l'installazione di QG server è relativamente semplice c'è il pacchetto soprattutto su server io lo aggiono sempre abbastanza orientato a Linux per dei server per me il server è Linux però sia in realtà anche con Windows dovrebbe esserci il pacchetto con lo studio installer con cui installate già QG forse un po' più complicato su Windows potrebbe essere l'Eatsmap non lo so seguendo le istruzioni non è nemmeno così complicato si può installare anche l'Eatsmap è vero che per l'installazione di l'Eatsmap su un server richiede un po' di competenze di gestione del server quindi noi utilizzeremo un server dove sono già installate queste applicazioni un server che noi utilizziamo in produzione cioè noi abbiamo dei servizi anche servizi a pagamento su questo server dove è già tutto configurato mantenuto aggiornato pochi giorni fa abbiamo fatto appunto l'aggiornamento alla nuova versione di l'Eatsmap così come l'aggiornamento alle versioni LTR di QGIS e sono installati anche l'interlato database PostGIS eccetera eccetera e quindi utilizzeremo questo server per comodità perché c'è già tutto installato il discorso Nextloud è lo strumento che noi anche lì per semplicità utilizziamo per sincronizzare i dati ma appunto non è come diciamo prima non è l'unico cosa serve da parte vostra per seguirmi oggi o per seguirmi anche o per replicare per chi è in zona rossa nelle fine settimana per chi o le settimane seguenti perché tanto avete l'accesso a quello spazio condiviso ovviamente senza garanzia perché ogni tanto cancello progetti e dati quindi non caricateci sopra del materiale ovviamente non caricateci non caricateci sopra materiale illegale che non si possa possedere per quattro sia e ne soprattutto non caricateci sopra materiale materiale che poi non avete salvato anche sui vostri sui vostri pc o server perché ovviamente è uno spazio condiviso io ma anche qualcuno di voi stesso inadvertitamente può cancellare essendo appunto uno spazio condiviso cosa vi serve a voi per seguirmi oggi ma o per seguirmi negli anni prossimi mi serve QG si è installato su un pc qualcuno ora mi potrebbe chiedere che versione io consiglio sul server ho installato QG server nella versione LTR quindi quella è la versione su cui qualsiasi cosa voi configuriate su QG in questo momento il 3.10.14 su server ve la dovreste ritrovare se utilizzate QG 3.16 perché siete fan dell'ultima funzionalità potrebbe esserci qualcosa che manca nel lato server viceversa se utilizzate se siete se non amate gli aggiornamenti o non potete fare gli aggiornamenti perché per me so che molti vengono e hanno appunto dei limiti su poter aggiornare le proprie applicazioni va bene anche avere una versione un po' più vecchiotta è chiaro che potrebbe esserci qualcosa che non funziona ottivamente quanto spazio c'è a disposizione nella cartella che avete nella cartella che non è nella cartella condivisa che avete voi abbiamo un gigabyte di spazio più avrete quello limitato nel tempo nel senso che poi cambieremo utente password avrete anche uno spazio anche quello limitato vi chiedo di non caricarci sopra eccessivamente troppi dati diciamo che vado sulla fiducia uno spazio anche su su database per circa un mese per provare a sporcarvi le mani visto che vedremo anche l'editing e quindi nella cartella appunto quella condivisa abbiamo un gigabyte in questo momento ho lasciato un po' di dati già presenti quindi ci sono già circa 300 mega di dati che però si possono anche in parte in parte rituire servono questi strumenti l'altra cosa che l'abbiamo detto di QGIS la cosa che vi chiedo a chi volesse seguirmi soprattutto a chi volesse seguirmi in diretta di seguire cercare di seguire il più possibile attentamente le mie istruzioni quindi quando vi dirò vi tratterò magari in maniera potrà sembrare poco poco salvato il progetto con nome underscore cognome cercherò di andare appunto con calma e precisione ma l'unica accortezza che vi chiedo di non almeno in diretta di non essere eccessivamente anarchici ma di eseguire abbastanza pedisticamente quello che le istruzioni che vi chiederò che vi darò nel frattempo vado sempre con calma se volete seguirmi è necessario scaricare il client nextcloud dal sito nextcloud tanto comincio a uscire dalle presentazioni così magari però l'ho aperto nella pagina sbagliata questo qua io ero già dentro al nextcloud nextcloud ora qua io sono già andato troppo avanti get nextcloud ovviamente non il pacchetto server ma l'applicazione desktop ci sono anche il nextcloud per android per iOS desktop download nel mio caso riconosce che ora sto lavorando su una macchina windows ma se ciascuno di voi riconoscerà la propria diciamo la propria proprio sistema operativo e quindi vi chiedo se volete seguirmi dovreste scaricare questa applicazione abbastanza leggera questa applicazione poi vi una volta attiva aperta parte di default e nel mio caso io ho un po' di utenti creati questo è proprio quello che ho creato stamattina per il workshop per GFOST che ora ripeteremo una volta installato nextcloud lo potete cercare su minus o su minus questa cosa c'è l'applicazione vi apre appunto nel mio caso la voce aperta vi apre potreste arrivare al primo accesso 99 su 100 vi aprirà questa procedura di connessione con la quale potete accedere al server oltre allo username e alla password che vi ha comunicato stefano campus vi serve il link che carico sulla chat prendetelo sto scrivendo sul termo fatemi ancora ok quindi trovate sulla chat il link vi chiedo proprio di copiare e incollare per evitare di avere problematica o altro una volta inserito il link appunto che lo metto anche in diretta io ho detto di copiare e incollare poi io me lo sono riscritto facendo rischiando di fare errori ortografici è molto facile è molto facile per me che so come abbiamo chiamato il servizio figurarsi per uno che lo sente per la prima volta perché lo sento e proseguire con il successivo a questo punto poi vi apre una pagina del server in cui mettere utente password io non lo faccio perché ho già l'ultima l'ultima richiesta è anche quella di volendo scegliere la cartella dove salvare i dati lui mi propone di salvarvi una cartella dentro un vostro utente che si chiama nextcloud nel mio caso ad esempio io ho una cartella nextcloud scritta con la lettera minuscola all'interno della quale ho tutti i vari ne ho più di uno ho i vari repository nextcloud e quello che usiamo oggi appunto questo nextcloud questa è la mia cartella locale questa è la mia cartella locale non so se qualcuno di voi intanto parlate un po' lentamente perché è utile per spiegare ma vi dà anche il tempo a chi volesse di di arrivare al mio livello e quello che vedo in questa cartella locale una volta che ho effettuato la sincronizzazione è quello che ho che vedo anche da web cioè la stessa con quel link che vi ho mandato in chat voi potete accedere via web vi chiederà utente password e con l'utente password che ha scritto in chat Stefano arriverete a questa pagina qua la prima pagina non ho cambiato è stata cambiata da poco ed è prima degli ultimi file se cliccate in alto su file arrivate a vedere i vostri file ora io vi ho detto che è necessario e qua sopra peraltro trovate come promesso le slide che si chiamano QG server le slide che stavo mostrando fino a poco fa quindi diciamo che vogliate installare l'applicazione o che non la volate vogliate installare comunque le slide le potete avere c'è il link con l'utente password dopodiché in teoria potreste anche non installare nulla cioè quello che poi servirà noi lavoreremo su progetti QGIS quello che in teoria servirà è caricare il progetto sulla cartella lo dico in teoria poi nella pratica cosa succede che se il progetto QGIS richiama anche dei dati dovreste caricare anche i dati quindi vi chiedo possibilmente di non usare di non fare quello che di non caricarli da web ma in teoria ovviamente io potrei lavorare su un progetto QGIS sul mio desktop e dovrei caricare il progetto e ovviamente anche tutti i dati accessori e poi caricare tutto su web anche semplicemente trascinandolo per farvi un esempio se io prendo la locandina del webinar di oggi la metto qua sopra la locandina verrà automaticamente caricata scusa scusa Roberto chiede Giacomo come hai connesso la cartella locale all'indirizzo web e Nicola quanto spazio c'è a disposizione per la cartella personale sul vostro cloud sì Nicola quella è la risposta che abbiamo un gigabyte di spazio in totale per la cartella workshop e invece Giacomo allora l'ho connessa da web ho semplicemente cliccato sull'indirizzo e inserito utente password da desktop diciamo che ho proseguito con dove l'ho arrivato qua mi son fermato perché era già connessa nel mio caso ma inserendo l'indirizzo a questo punto vi dovrebbe aprire in automatico una finestra del vostro browser in cui inserire l'utente password procedendo magari non lo faccio però ve lo faccio vedere ora io sono già logato quindi mi dice accordo accesso vi dovrebbe arrivare questa pagina mi dice di chiudere la finestra una volta chiusa la finestra tornando qua mi riconosce dove sono a questo punto mi propone di salvare da qualche parte i miei dati qua io posso anche cambiare la cartella locale nel mio caso io ora non farò connetti perché ce l'ho già non mi sto a duplicare i dati questa mattina quando ho ricollegato la cartella workshop perché non ce l'avevo cancellata per evitare di avere continue singolarizzazioni ho semplicemente cliccato qua sopra e definito dove andare a salvare i dati facendo connetti ovviamente compatibilmente con la vostra rete siamo collegati su zoom o altro ma non ci dovrebbe voler moltissimo vi dovrebbe scaricare tutto quello che c'è presente qua sopra e spero di avere ok Joe Lutz dice che non riesce a scaricare il pdf della slide può essere che sia dovuto al fatto che magari l'ho aperto io potrebbe essere facciamo una prova server no non da qua scusate dovrebbe dai puntini scarica vediamo se si a me funziona quindi dovrebbe ok grazie dei feedback che di entrambi ok allora per chi vuole seguirmi a questo punto ci apriamo un progetto QGIS ne apriamo uno vuoto il progetto vuoto QGIS devo prendere dei dati i dati devono essere sul server se i dati non sono sul server non ovviamente quando poi li andrà a pubblicare non li troverà è un era dovrebbe dovrei quasi usare stavo per dire è uno dei problemi tipici il fatto di avere i dati che non sono collegati al progetto in realtà recentemente direi nelle ultime versioni del plugin di Leedsmap hanno inserito anche un assolutamente molto utile un warning un messaggio di errore che ci segnala quando utilizziamo quando utilizzeremo i plugin Leedsmap che ci segnala che c'è qualche file che non è nella cartella del progetto ovviamente questo funziona se se lavoriamo in una cartella sincronizzata quindi lavorando con uno strumento tipo next loud quindi lavorando direttamente dentro questa cartella funziona ho sbagliato cartella ah no no scusate qualcuno dovete ovviamente indicarli una cartella non esistente altrimenti fa la sincronizzazione della vostra cartella questo non l'ho precisato scusate cancellerò no non cancello io chiedo a chi ha sincronizzato la sua cartella documenti immagino qualcosa del genere di togliere la sincronizzazione subito perché poi gli dovrò cancellare le sue cartelle perché se no vediamo c'è anche una cartella stipendi che non vorrei chiedo chiunque l'abbia fatto ok quindi chiedo Enrico prima di cancellarti i dati di di togliere la sincronizzazione per togliere la sincronizzazione ti faccio vedere come bello della diretta quindi se dove hai dove vedi diciamo il workshop con nelle impostazioni da qua c'è rimuovi connessioni sincronizzazione cartelle e cliccando su rimuovi connessioni sincronizzazione cartelle dovrebbe toglierti la sincronizzazione a quel punto io posso cancellare i dati che sta caricando appena ok anche Vincenzo vi ho confuso dicendo di cambiare la vi ho confuso io dicendo di cambiare il percorso forse vi dovevo lasciare certo come rimuovere la sincronizzazione dovete quindi aprire dal diciamo dalle notifiche se siete su Windows ma anche su Linux e credo anche su Mac le notifiche trovate in basso ci cliccate sopra a quel punto potete ovviamente noi voi non vedrete tutti gli altri utenti andate su impostazioni e dalle impostazioni dovreste vedere una pagina tipo questa e dai tre puntini adatto potete rimuovere la sincronizzazione di cartelle vi chiedo solo se riuscite in chat a dirmi quando lo avete fatto tutti e poi potete io ora cancello i dati erroneamente caricati e così ritiamo ok grazie grazie Enrico se quando quando sei riuscito a fare anche Vincenzo gli chiedo di scrivere in chat così vado a cancellare i dati senza rischiare di cancellare i dati i vostri dati grazie no tranquilli scusate voi che sono stato io forse poco chiaro anzi vi ho suggerito personalizzate la cartella non usate Nextcloud ok avete fatto più o meno direi tutti ok grazie grazie a tutti allora vado un secondo a aggiornare la web e a cancellare i dati che non c'erano no la cartella media deve rimanere la cartella OneDrive non serve per fortuna i dati pesanti non ha caricato nulla la cartella da zero kilobyte perché vi chiede un approfondimento direi che sì non c'è nient'altro quindi selezionati e azioni ok abbiamo eliminato siamo arrivati siamo tornati nella cartella vector ci sono un po' di roba anche questa roba anche abbastanza pesante che possiamo vabbè lasciamo un attimo di vecchi webinar tra l'altro non caricata nemmeno webinar sicuramente del workshop dello scorso anno ho rimosso raster grazie Nicola comunque i paesi eliminati li trovo non c'era credo quasi nulla di raster grazie del feedback sì era vuota per fortuna allora a proposito del feedback allora qua in questa cartella nextcloud mi stavo dimenticando ci sono delle cartelle lei era una cartella che ha caricato qualcuno appunto nel webinar o nel workshop passato non l'ho cancellata perché credo ci sia qualche dato che ci punta sopra raster e vector sono due cartelle che abbiamo indicativamente caricato noi servono semplicemente non sono una regola ma servono semplicemente per dare ordine io i dati li potrei prendere tutti gli shapefine e caricarli alla rinfusa qua sopra diciamo che non è l'ideale 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 è cercare di di caricare dei dati in maniera ordinata quindi noi abbiamo dato un suggerimento con la cartella raster vector ma le potrei chiamare ovviamente pippo pluto paperino e funzionerebbe tutto ugualmente l'importante ovviamente è che i percorsi relativi dal progetto al file siano mantenuti corretti quindi se io ora abbiamo aperto un progetto pulito ci carico sopra un dato l'importante è che il percorso sopra un dato il progetto venga mantenuto e invariato e quello che vediamo in questa cartella questa cartella condivisa cos'è? è quello che l'itmap chiama repository cioè un ambiente all'interno del quale si possono caricare i progetti QGIS da pubblicare su web sì vi ricopio in chat l'indirizzo lo lo rimetto e trovate nella storica trovate anche poi utente password che però forse vi avevo detto di no scusate l'ho risposto in privato non so per chi ha la persona sbagliata via chat a tutti ok qualcuno mi chiedeva di ripostare l'indirizzo del server dicevamo quindi cartelle possono essere cartelle con qualsiasi nome l'unica cartella che invece si deve chiamare media quindi non va rinominata la cartella media dentro la cartella media poi vi dirò ci arriveremo dopo il listmap si aspetta di trovare delle informazioni dopo cercherò di essere più chiaro in tal senso e quello che faremo ora è creare un primo progetto da pubblicare dico sempre che durante il webinar ci mettiamo veramente dieci minuti un quarto d'ora per creare questo progetto ma per il tipo di progetto che creeremo è un lavoro che chiunque di noi farebbe se non dovesse parlare se non si dovesse dilungare o altro avrebbe già finito di fare per la qualità del lavoro pessimo che andremo a fare andremo a pubblicare vi farò a caricare un file gml e pubblicarlo e quindi ho creato scusate parto da QGIS è un progetto vuoto e carico un dato che trovo nella cartella vector e è un gml un file vettoriale gml che si chiama palazzi ronni chi avesse già seguito webinar passati so che è l'esempio classico è un dato nel sistema di riferimento 1-40 a Montemario con proiezione che lo spaga Fuso Ovest è un dato che ho scaricato anni fa dal credo poi che varie dal dai servizi WFS del Comune di Genova dovrebbe esserci indicata la varie cancellazioni di file spero di non averla persa ma dovrebbe esserci anche caricata temo di averla persa l'origine la dico a voce poi integrerò col file di testo che specifica appunto un dato scaricato dagli open data del Comune di Genova cosa sono? Sono dei palazzi storici nel centro storico di Genova per chi lo conosce probabilmente chi è già stato visitato nel centro storico di Genova magari li ha già visitati consapevolmente sono palazzi molto belli da un punto di vista architettonico localizziamo il centro storico per localizzare dove siamo per esserciardi di averlo caricato bene utilizzo il non ce l'ho il plugin in quick map quick map science giusto per devo ricaricarlo giusto per metterci uno sfondo e visualizzarlo anche se non è assolutamente anzi ai fini della pubblicazione su web lo sfondo poteva anche non servire avrei potuto non usarlo a questo punto salvo il progetto e qua vi chiedo la cortesia no allora mi chiede giustamente domande che vengono fatte in privato mi chiedono se dovete collegare creare una directory col vostro nome e cognome dove lavorare la risposta è no il progetto deve anticipo un po' quello che vi avrei detto nel senso che i progetti devono stare tutti nella cartella nel repository quindi il progetto ora vi dirò come salvarlo questo si con la cartella con il nome e cognome ma ci arriviamo i dati i dati non quindi non i dati allora se volete lavorare in locale e trasferire i dati via browser vi consiglio di crearvi in locale una cartella vector chiamate vector e di salvare il progetto a fianco alla cartella vector a quel punto vi basta copiare e quindi se volete lavorare in locale senza usare nextcloud dovreste crearvi una cartella vector salvarvi farvi il download di palazzi rolli creare il progetto salvarlo parallelo alla cartella vector e poi potete semplicemente copiare i file che vi dirò di copiare se invece vi siete scaricati in locale quindi se intendete locale i dati su nextcloud sarà sufficiente fare quello che faccio io cioè caricare il file e poi cosa faccio ora io prendo il file di progetto e lo salvo lo salvo dove lo salvo nella cartella condivisa nextcloud workshop lo salvo in formato qgs non qgz e come lo salvo lo salvo con mio nome e cognome senza spazio senza usare spazi nome underscore cognome nome cognome attaccato scegliete voi cognome nome poco importa vi chiedo solo di non usare solo il nome o solo il cognome per avvisare i casi di omonimia spero che non ci siano due mari rossi che quindi si sovrascrivano siamo in tanti ma spero non ci siano due persone che si chiamano nello stesso con lo stesso nome con lo stesso cognome e se poi vedete l'elenco chi vede leggo se vede di avere un omonimo utilizzi anche la sua data di nascita vorrei evitare il codice fiscale però se no passiamo al codice fiscale e quindi lo salvo appunto con nome e cognome mentre do il tempo a chi vuole lavorare mi accendo un secondo la luce scusate per l'inconveniente della regia ma se no non vedo più nulla chiedo scusa per la per la pausa che spero vi abbia dato appunto allora la cartella workshop allora chi ha ok no chi ha bloccato la sincronizzazione dovrebbe poi ricrearla ricrearsi una cartella ovviamente se vuole lavorare parallelamente a me dovrebbe riaprire next out e rifare tutto quindi cancellare quella per cui ha bloccato la sincronizzazione e ricreare una cartella facendo la sincronizzazione con una cartella vuota cioè la sincronizzazione va fatta ma con una cartella che deve essere quando è iniziata la sincronizzazione deve essere una cartella vuota in cui lui va a scaricare quello che attualmente è sul server ok perfetto Matteo invece è semplicemente aveva bisogno di che cominciasse la sincronizzazione questo perfetto quindi sì sto andando lentamente anche per consertare da tutti poi ripeto vedete voi valutate anche voi se se abbia più senso seguirmi e testare in diretta quello che faccio o se ribadisco vi lascerò per sia lo spazio su next loud sia poi dopo il uno spazio su database quindi le cose le potete riprovare anche in un secondo momento quindi non preoccupatevi se volete seguirmi bevendovi la tisana e nel frattempo prendervi appunti e poi replicarli in un secondo momento è assolutamente possibile per chi invece vuole abbiamo salvato il progetto appunto con nome e cognome a questo punto chi non lo avesse ancora installato chi lo volesse lo devesse aggiornare consiglio comunque di farlo vado nella gestione di plugin e cerco il plugin leesmap il plugin leesmap verifico se è da aggiornare se non è da aggiornare insomma faccio faccio le mie verifiche e lo installo se non è ancora installato il plugin leesmap lo trovo con questa iconcina qua oppure dal menu web e mi trovo questo questo plugin rinnovato da pochissimo con questa prima pagina che voi vedrete già leggermente diversa diversa da me prima pagina cosa cosa fa la prima pagina vi dice quali sono le versioni client e avete la possibilità di indicare un indirizzo lo vediamo magari dopo dopo sarà più evidente un indirizzo del server e lui va a verificare la versione che è presente sul server che state utilizzando segnalandovi eventualmente se quella versione per riavviare la sincronizzazione è sempre da impostazioni dovete però aver cambiato la la cartella altrimenti se vi avviate la sincronizzazione quindi io vi consiglio di rimuovere quella la sincronizzazione che avevate provato a dare precedentemente e di rifare i passaggi da a creare una nuova un nuovo account quindi rimuovere il precedente e ripartire da zero tanto avete il tempo nel senso che non non correrò eccessivamente veloce poi ripeto semmai lo potete anche replicare a posteriori sarà a tempo perché poi arriveranno le domande se è un progetto QGIS per usare l'ITMAP confermo con QGZ non va o almeno fino a poco fa non andava direi proprio di sì peraltro perché serve QGIS e non QGZ perché QGZ d'altro non è che un file compresso del file QGIS il file QGIS è un file XML che da web si riesce che l'ITMAP riesce a leggere agevolmente credo che l'idea di non andare sul QGZ anche per non rallentare ulteriormente non è tanto una pigrizza degli sviluppatori perché vorrebbe dire dover de-zippare cioè dovremmo dal punto di vista informatico de-zippare ogni volta che si vuole interrogare cioè si vuole accedere al file o fare un'operazione di de-zip e lettura che quindi non farebbe che rallentare urlo dovete aggiungere quello che vediamo non è assolutamente obbligatorio poi ci arriviamo dopo quindi no per ora non fate nulla non so quanto riusciate a vedere dalla condivisione dello scherbo quindi per ora non preoccupatevi non è vincolante si può lasciare tranquillamente vuoto è solo questa pagina è abbastanza nuova è solo un controllo qua potete scegliere la versione di listmap che è installata che state utilizzando come client e io vi dico di usare la 3.4 perché sul sul server che su cui andremo a pubblicare i dati che è questo qua di listmap su cui stiamo lavorando c'è appunto la versione 3.4 andiamo sull'opzione di mappa sull'opzione di mappa cosa si può fare si possono si può decidere quali strumenti di mappa abilitare esempio la misura esempio la history zoom poi possiamo parlare scusate ho la versione ho parlato prima delle traduzioni ho la versione in inglese di QGIS ora poi magari la cambio così arriviamo abbiamo tutti la versione che è più probabile che molti di voi probabilmente hanno per fare vari test passo abbastanza in continuo la versione italiana inglese si possono aggiungere dei livelli di scala i livelli di scala si aggiungono con la virgola tra uno e l'altro se ne può aggiungere si può aggiungere un livello minimo oppure livelli intermedi sui livelli di scala va detto prima andava detto ora poi pian piano ogni volta che di webinar in webinar di corso in corso certo mi accorgo che molte delle cose che prima diceva voce vengono integrate dette inquiviste lo dicevo prima a proposito degli errori errore tipico avere il file fuori salvato con un percorso relativo non corretto e anche l'altra cosa una precitazione sulle scale se io uso delle scale nel sistema di riferimento indicato con le psg 3857 cioè quello con la proiezione google mercatore quello utilizzato dalla maggior parte dei servizi web non solo viene considerato solo il minimo e massimo delle scale tutte le scale intermedi in realtà non e per e per e per il print queste scale vengono date se invece non usiamo delle mappe di base queste di queste qua che usano appunto il 3857 a questo punto tutti i livelli che io indico qua sono i livelli che poi effettivamente vedrò pubblicati attualmente in una prima analisi possiamo anche semplicemente indicare il 1000 giusto perché se ci limitiamo al 10.000 stiamo parlando del centro storico di Genova che d'accordo lo dico per campanilismo e con un po' di orgoglio inorgogliendomi è il centro storico dei capoluoghi più grande d'Europa almeno così così dico la Genova fortemente ognuno dice così del proprio centro storico e sicuramente è un centro storico grande ma ora lo stiamo vedendo per intenderci alla scala del 1 a 6.600 quindi al 10.000 vedrai veramente poco e quindi per visualizzare questo tipo di informazione arrivo almeno scendo il più possibile il più possibile limitatamente con il livello di scala di questi dati che non sarà certo così di dettaglio penso che vengano dalla se va bene dalla CTR al 10.000 se va bene e torniamo scusate al plugin dsmap plugin dsmap che peraltro mi chiedeva leggevo in chat che ho chiuso e che ora riapro ho chiuso senza salvare in avvertitamente a cui posso accedere dal menu web quindi dal menu web oppure dalla toolbar con la sua iconcina e quindi rifaccio quello che parlando in avvertitamente non fatto quindi ho cliccato su tasto poi ci ritorneremo quindi non preoccupatevi per ora ho cliccato se volete replicare quello esattamente quello che pedistricamente quello che faccio io perché così ho detto ma su questo non è così importante più che altro era il nome del file ecco ho cliccato su misura e zoom poi arriveremo a capire cosa sono e ho aggiunto un livello di zoom a 1000 tanto poi sarà un continuo da ora in avanti vedremo aprire e richiudere posso settare la visualizzazione iniziale per esempio mi potrebbe andar bene settarla a questo livello quindi lo faccio dalla visualizzazione dalla visualizzazione attuale poi ho il menu layer dove ho l'elenco dei layer caricati sul progetto per esempio vado su palazzi dei rolli senza farmi tanti problemi e dico no lo voglio vedere senza l'underscore ma con lo spazio potrei indicare poi qua una descrizione eventualmente potrei aggiungere un link cosa vuol dire aggiungere un link una domanda che tra l'altro molti mi fanno su vizmap non è molto chiaro palazzi dei rolli dicevo prima sono un'attrazione turistica wikipedia visit genoa c'è proprio un sito palazzi dei rolli di genova se io volessi potrei prendere questo sito qua e così poi vediamo cosa succede e caricarlo sul mio QGIS nella sezione link e poi gli dico ripeto chiedo scusa per la versione inglese clicco su attivato che è un'attrazione italiana quindi gli dico che i palazzi dei rolli lo voglio vedere appena parte il progetto questo open street map posso decidere di visualizzarlo nella leggenda oppure di usarlo come mappa di base con lo stesso principio posso decidere di usare anche altre mappe di base sempre OSM però sarebbe una replica tommen OSM un rendering diverso di queste mappe e poi altre carte anche quelle di Google o di Bing ovviamente purché io abbia la pk e poi volendo potrei anche usare una mappa bianca e poi decido quale vuole essere la prima voglio che per prima si veda mapnik questa qua che poi è la stessa che sto vedendo qua allo stesso modo siccome sto usando le mappe di base che sono un po' più veloci perché sono quelle che sfruttano la libreria di OpenLayer che permettono di visualizzarle potrei anche dire questa non la voglio vedere come mappa di base non la voglio vedere nemmeno nella leggenda vuol dire che questo sfondo qua che io sto usando nel progetto QGIS non lo vedo questa cosa uno può dire vabbè ma non mi interessa è da invece bisogna starci molto attenti perché è la maniera per ottimizzare i nostri progetti in parte perché poi quando comincio ad avere tanti layer più ho l'albero dei layer puliti più ho un WebGIS pulito in parte perché meno roba ho da caricare più ovviamente tutto sarà veloce e quindi attenzione questa è una una funzione da utilizzare e vi invito a utilizzare con cautela ricordandoci poi piccola parentesi che il nostro obiettivo è sempre realizzare il WebGIS il WebGIS deve essere qualcosa che tende è una retta che tende a Google Maps non per la mia passione per Google Maps ma perché lo scopo è quello di creare un qualcosa di semplice di utilizzo semplice e semplicato a questo punto faccio applica ok se avete cliccato se cliccate vi suggerisco di cliccare su questo tasto save QGIS project to non dovete fare quello che forse è rimasto scritto nelle slide cioè salvare ricordarsi di fare due cose salvare il progetto e salvare il plugin di Smart a questo punto voi potete tranquillamente lavorare solo ed esclusivamente sul plugin di Smart e con questo tastino qua save QGIS project to avete il progetto visibile poi arriviamo a vedere tutte le altre funzioni abbiamo tutto il tempo abbiamo ancora due ore di tempo per vedere veramente tutte le altre funzioni clicchiamo su ok cosa è successo è successo senza che noi ce ne siamo accorti che a fianco ai progetti che io e voi avete caricato si è creato il file punto QGIS io non vedo e un file punto QGIS punto CFG è successo per me ma è successo anche per Nicola ed è successo anche per Roberto e così via si è creato nel momento in cui avete cliccato ok io salvo su Smart ora se noi chiedo scusa perché vi metto il link perché ho dimenticato di creare il link rapido e quindi no possiamo fare così andiamo su gshosting punto gtr punto it che è l'indizio del nostro server senza usare Nextcloud e arriviamo a questa pagina arrivate a questa pagina andate su login mappe quindi spazio utente login mappe non dashboard login mappe mi raccomando e a questo punto indicate workshop e la vostra password dovreste arrivare non alla pagina di amministrazione ma alla pagina al vostro repository che vi mostra questa lunga pagina dove ci sono tutti i nostri progetti e anche qualcosa che c'era già su cui poi torneremo con nome e cognome a questo punto ciascuno può visualizzare il suo progetto io visualizzo il mio e vedete che abbiamo pubblicato vi dicevo prima che per pubblicare questo progetto voi potreste dire sì vi scrivo il link anche qui no posso vabbè potete questo direi anche molto semplicemente ora vi scrivo il link completo ma se cercate il gs hosting dovreste trovarlo vedo eh però vi metto il link così però scusate la rischia di di finisce quando mi arriva della domanda mi finisce in privato ok metto il link per tutti non me l'ha presa come link ma direi che te lo copiate e incollatelo da un funzionale non so ho sbagliato ed ho il progetto pubblicato qua trovo misura perché trovo misura perché avevo cliccato sul sul tastino se vi ricordate quando avevo aperto l'eats map map option avevo cliccato su misura se non avessi cliccato su misura non lo troverei cosa vuol dire vuol dire che ora io tolgo il flag ok perché non voglio attivare le misure cosa tipicamente improbabile faccio ok do il tempo ovviamente al mio eats map di fare la sincronizzazione vado sul mio progetto web aggiorno tutto al più posso verificare che non rimanga qualcosa nella cache io ho questo magico tastino che mi pulisce la cache quindi come funziona sempre se no mi ripulisco la cache e vedete che il tasto di misura non c'è e questo da ora in avanti su tutto quello che voglio pubblicare voi capite che anche stile ora voglio aggiungere dei livelli di zoom cioè fare poi le persone infatti vi ho detto cominciamo a pubblicarlo poi facciamo le personalizzazioni la prima personalizzazione è cominciare a a modificare questa toolbar non so devo essersi già perché mi compaia questo group time tool perché non c'è nessun group time tool ah no sì lo so perché mi compare perché secondo me è rimasto qualcosa lo cancelliamo per non creare confusione ok lo cancelliamo scusate cancelliamo tutto questi sono vari test infatti anzi cancelliamo la tabella e a questo punto si aggiorna così non vi confondo con dei tasti che che non dovrebbero compagliere la toolbar è appunto personalizzabile con i vari tasti può diventare molto più complessa allora ci arriveremo lo scopo è arrivare a a vedere un po' un bel po' di cose mi chiede Carmine una domanda ottima che attivando solo le mappe di base la stampa di Lismap risulti senza lo sfondo assolutamente sì soprattutto se usate le mappe di base di OpenStreetMap come non riusciremo probabilmente non so se è una cosa che riusciamo a vedere in realtà abbastanza rapida si tratta di se se usate se volete usare gli sfondi cartografici dovreste replicare le mappe di base anche qua sopra anche semplicemente come come layer nascosto se usate le mappe di base in questo momento per esempio io sto usando scusate la mappa di base Osma Mapnik trovate tutto questo lo trovate sul manuale di Lismap sostanzialmente Osma Mapnik corrisponde come dicevamo a questa Osma Standard che infatti io ho nascosto dalla leggenda se io voglio nella stampa ora la stampa non l'abbiamo ancora visto come funzioniamo nella stampa se volessi stampare Osma Mapnik dovrei questo layer qua che ho caricato per esempio usando Quickware Service come fa in XYZ lo rinomino mi pare vado a memoria chiamandolo comunque se non mai di Lismap è spiegato lo rinomino chiamandolo Osma meno Mapnik a questo punto e lo stesso discorso va fatto per tutti gli sfondi eventuali a quel punto la mappa di sfondo viene stampata altrimenti è possibile quando non abbiamo ancora visto non siamo ancora arrivati alle stampe ma quello che chiede Carmine che comunque ha già provato ad usare altre volte di Lismap è possibile che non gliela stampi assolutamente sì confermo ed è assolutamente normale che sia così cioè normale ci vuole questo questo trucco per per caricare le lampe di base bene bravi a farmi domande perché appunto poi di cosa dire ce ne sono veramente tanti questo trucco mi sarei sicuramente dimenticato di dire ve lo dico confesso a Chaudi non riusciremo a vedere tutto quello che si può vedere su Lismap qualcosina però in quattro ore nelle due ore che rimangono comunque un bel po' di cose si riescono a vedere quindi ben vengano le vostre domande il link per accedere al vostro progetto link per accedere al progetto in realtà il link specifico meglio è serve per accedere al repository per accedere al repository la strada migliore siccome non manca è accedere all'indirizzo che vi ho inserito sulla chat di sosting.gter.it quindi arrivate vi faccio vedere i passi arrivate al sito e dal sito potete andare su in alto a in alto a destra trovate lo spazio utente e l'opzione login mappe l'opzione login mappe se ci cliccate arrivate ai progetti questo qua trovate il vostro repository questo workshop non cliccate su questo link perché non funziona ma anche il link per lo raggiungo lo sistema e trovate tutti i vostri progetti ovviamente a questo punto che si chiamano nome e cognome chi non stesse seguendo può cliccare su qualsiasi di questi progetti e vedere comunque in diretto oppure semplicemente guardare quello che mostro io immagino che andando su uno qualsiasi dei vostri progetti si vedano più o meno le stesse cose cominciamo prima poi di arrivare all'obiettivo finale che è vedere qualcosa anche dell'editing cominciamo a vedere qualcosa relativamente alle prime modifiche che si possono voler fare scusami Roberto ci sono un paio di domande che magari allora dice Simone disegnando delle forme su Litsmap si riesce a sincronizzare aggiornando il file GIS ma questo lo stai spiegando adesso sull'editing e Nicola dice io ho attivato anche il pulsante stampa sulle impostazioni di Litsmap nel plugin di QGIS come mai non compagna una barra laterale ok sì allora sull'editing sì vi chiedo di appazientare ancora un po' però dico subito una cosa invece perché la domanda effettivamente secondo me fa riferimento a a questa opzione qua tanto fanno riferimento le due domande credo quella di Simone credo che faccia riferimento all'opzione disegna e quella di Nicola fa riferimento all'opzione print se io le clicco riclicco anche misura e faccio ok tempo ovviamente diamo il tempo di sincronizzare faccio un controllo per non fare brutte figure ok e vado su nulla di nulla di grave e vado sul mio progetto e lo aggiorno semplicemente aggiornandolo semplicemente mi compare misura mi compare draw la 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 disegna la funzione disegna no la funzione disegna è una funzione disegna che funziona in locale non è ancora l'editing di QGIS è una funzione che hanno aggiunto che è stata aggiunta con la versione 3.4 di Lismap è una funzione che secondo me non deve confondersi con l'editing è tutta un'altra cosa è tutta un'altra storia consente però di fare dei disegni sulla mappa quindi posso disegnare appunto linea area cerchio o altro e anche di eventualmente esportarli quindi è una cosa carina perché io posso poi esportarmi in vari formati oppure posso anche importarli i dati qua sopra posso modificare quello che ho fatto posso nascondere si tratta però di un qualcosa che può venire utilizzato per prendere appunti in buona sostanza credo devo essere sincero non l'ho mai provato non l'ho ancora provato che funzioni anche sulle lo dico in diretta ma direi sono abbastanza fiducioso che funzionerebbe anche sulle stampe e ora poi arriva la domanda di Nicola che non sono dimenticato né perso ma non è non è nessun modo collegato al server cioè quello che io sto disegnando ora se voi se qualcuno di voi avesse aperto il progetto Roberto Mazzocchi non lo vedrebbe è un qualcosa e viceversa io non vedo se voi state disegnando in questo momento una linea qua sopra quindi non è in nessun modo e non è da confondersi con quello che è editing dei dati non è assolutamente questo perché qualcuno potrebbe lo dico perché qualcuno potrebbe anche dire vabbè allora se questo è l'editing quella locandina che aveva pubblicato la stazione di Gifoss era assolutamente farlocca esco non sto qua fino alla sera ad ascoltare queste storie questo non c'entra nulla con l'editing quindi per l'editing dobbiamo presentare ancora un pochettino vorrei vedere ancora due o tre cose prima e questo appunto è una funzione diversa quindi la risposta è non si così disegnando delle forme non si riesce a sincronizzare i file QGIS ovviamente si può fare editing anche per sincronizzare i dati GIS ma lo vediamo dopo invece il discorso della stampa è così fatto c'è il tasto stampa effettivamente va attivato non basta non basta perché perché la stampa si appoggia al progetto QGIS e per chi usa QGIS QGIS come effetto le stampe con i layout stampa quindi per attivare il tastino stampa non basta cosa che ho già fatto cliccare su quel progetto stampa su quel su quel tastino stampa di Leadsmap ma dovrei aver attivato anche uno o più layout di stampa cioè tutti i layout di stampa salvati sul progetto layout ne aggiungiamo uno molto semplice facciamo un A4 orizzontale ok lo imposto attenzione posso metterci i miei loghi posso metterci tutto quello che voglio attenzione tutto quello che uso deve essere caricato sul server guardate bene che se io prendo ci metto la mia mappa ovviamente oltre ai loghi e tutto no ho preso l'immagine invece che la mappa negli layout di stampa di QGIS a volte mi rendo conto quando facciamo la lezione sulle stampe di QGIS che ormai sono arrivati a un livello talmente bello che a volte mi dimentico di mettere una stampa quasi tra loghi grafici e e altre funzionalità quindi metto la mia meccettina del nord mettiamo una scala faccio un livello di stampa inguardabile devo essere sincero però ci mettiamo il minimo indispensabile posso fare un livello di stampa di una due tre pagine cioè una dieta che dopo ci metta una pagina dedicata alla leggenda che ci faccia dei moduli sopra o altro una volta creato il mio layout di stampa salvo salvando viene salvato nel progetto e a questo punto non è nemmeno necessario riattivare l'ITSMAP l'ITSMAP sapeva già che le stampe che il tastino stampa doveva comparire e a questo punto vedete che la stampa è disponibile in questo caso ho un solo modello se io avessi anche la 4 verticale potrei scegliere gli altri layout di stampa scelgo la scala tra quelle vedo ora scusate cancelliamo la nostra forma ok torniamo alla nostra stampa una volta impostata la scala vedo diciamo l'anteprima dell'oggetto che vado a stampare se facessi una stampa 1000 me la piazzo da qualche parte e poi posso fare una stampa vediamo tra l'altro se la 4 che ha creato ho chiamato correttamente lo sfondo l'avevo creato l'avevo chiamato correttamente automap che vedete che la stampa ha funzionato una stampa devo essere sincero molto molto brutta cioè con QG se si riesce a fare qualcosa di molto meglio ma l'abbiamo fatta in 30 secondi quindi mi perdonarete ok le domande sono fatte apposta allora ok allora ripeto tutto vedo le altre domande allora Matteo Matteo chiede se compra uno spazio Nextcloud allora ovviamente Nextcloud come dicevo prima è un è semplicemente un applicativo che viene che può essere utilizzato per sincronizzare i dati tra il tra il vostro computer tra il locale e il server su questo server qua che stiamo utilizzando che come vi dicevo prima è un server in produzione c'è la possibilità di avere dello spazio dedicato che però non vuol dire ovviamente comprare uno spazio Nextcloud generico Nextcloud è un applicativo tipo Dropbox che viene molto utilizzato anche totalmente al di fuori nell'ambito della geomatica quindi che non c'entra di per sé non c'entra nulla con QGIS è semplicemente uno strumento a nostro avviso a mio avviso abbastanza comodo per lavorare se io avessi la domanda che prima che ho anticipato ormai quasi una detta fa potrei usare anche l'FTP potrei usare l'SFTP potrei usare qualsiasi protocollo per trasferire dei dati dal locale al server non potrei fare questi giochetti comodi al mio modo di vedere molto comodi che sono salvo il progetto aspetto che venga fatta la sincronizzazione e vedo la modifica indiretta mi compare o scompare il tastino diventerebbe tutto un po' più complicato dovrei lavorare sul progetto puoi prendere il progetto prendere eventualmente i miei dati ricordarmi di copiare sia il progetto che il file di configurazione .cfg e trasferirli sul server con Nextcloud è tutto molto più semplice ok ripeto direi come giustamente mi suggeriscono la regia direi che finisco ancora questo set di domande e poi effettivamente se va bene direi che potremo fermarci per un paio di minuti di pausa che personalmente mi sarebbe anche molto utile avendo finito l'acqua della borraccia e quindi cominciando ad avere la moca impastata e ripeto un secondo per per qualcuno di voi che mi ha scritto in privato però il trucco chiamiamolo così della mappa di base che peraltro ho compiuto ho fatto male perché ho tolto da scogli il trucco della mappa di base è così fatto e peraltro l'abbiamo fatto anche a metà nel senso l'insmap noi abbiamo detto all'insmap di usare queste mappe di base che sono effettivamente che hanno il pregio di essere molto rapidi in visualizzazione dal punto di vista delle performance sono le migliori che possiate utilizzare che se volendo avere l'app key anche le eventuali mappe con i satelliti di Google o Bing a livello di prestazioni poi è chiaro che a livello di precisione del dato tenete presente che sarebbe meglio chiaramente va da sé che sono dati che non sono stati in nessun modo collaudati sono dati proiettati in un modo con la proiezione del pseudo mercatore che sappiamo avete per chi non l'ho seguito ma per chi ha seguito il webinar che mi ha preceduto uno dei webinar scorsi immagino che la proiezione di pseudo del mercatore sia stata magari citata come qualcosa dal punto di vista delle deformazioni altamente critica e quindi diciamo che però a livello di performance sono obiettivamente gli sfondi migliori ciascuno di questi sfondi però non viene stampato per effettuare la stampa occorre si può fare per ciascuno di questi occorre caricare lo sfondo corrispondente sul progetto io consiglio di usare il plugin quick map service che li ha tutti se avessi caricato lo sfondo di google o comunque se voglio utilizzare quello l'altro quello toner light che è quello l'altro sfondo che stiamo utilizzando questo c'è anche questo e poi devo semplicemente ricordarmi rinominarli con un nome esatto in questo caso sono andato a memoria e la memoria non mi ha ingannato il nome esatto è osm-mapnik scritto minuscolo con lo stamen già non lo so e quindi andrei a lo vado a controllare lo andiamo a controllare in diretta confesso di non ricordarmelo e tanto è utile per vedere il manuale di leedsmap come diciamo molto ha trattato molto bene sarà nella no la configurazione stampare qua ci sono vedete tutti i nomi per stampare i base layer esterni e osm-stamen torner il nome quindi faccio copia e colla poi vi metto il link nella pausa durante la pausa vi ricarico il link e quindi osm-stamen torner della documentazione comunque trovare che visto l'ho trovata su google mettendo list in documentation e rinomina l'importante è chiamarli come si aspetta di trovare lui una volta che li ho rinominati così la cosa che ho fatto erroneamente in precedenza è andare su layer e dire va bene io li carico sul progetto ma li nascondo quindi lui sa e li utilizza se deve fare la stampa ma altrimenti non li carica per evitare per evitare quello che è successo che ora ho corretto che mi compaglia qua lo stesso sfondo perché perché non è un granché cioè io a questo punto avrei vedete che ci metto un po' a caricare e mi caricerebbe una cosa che ho già peraltro se io ora andassi su stamen ma ho ho questo layer caricato non vedrai i layer di base quindi qualcosa appunto è estremamente brutto da farsi da vedere avendoli nascosti se ora aggiorno vedete che non ho più il layer lì e quindi posso tranquillamente diciamo visualizzare il mio layer di base mi chiede Vincenzo se può crearsi modelli di stampa 3 a 4 con tanto di logo scala e utilizzare i modelli di lisbap assolutamente sì è uno degli enormi vantaggi di l'utilizzo di QG server è che il layer di stampa di controllo da QG l'unica accortezza forse l'ho detto un po' velocemente è attenzione i loghi queste cose qua fate tutto mettete tutto sul server cioè non posso prendere il logo di GFOS nella mia cartella download o documenti e pretendere che questo logo poi venga stampato da QG server il logo lo devo caricare dentro la cartella condivisa col server quindi possibilmente per queste cose qua possibilmente usare la cartella media quindi mi prendo il mio logo di GFOS me lo carico qua sopra e poi lo posso mettere in usare le mie auto stampa grazie per i complimenti a chi deve lasciare buona serata e buona settimana allora Stefano mi chiede allora no andiamo per ordine scusa Stefano Domenico chiede mi dice che ha installato QG web service e che non vede giustamente tutti i data che ho io sul mio pc e quindi semplicemente deve andare sulle impostazioni appena mi apre e su more service creare cliccare su questo tasto get contributed pack e anzi possibile che sia utile che lo faccia anch'io ogni tanto e di tanto potrebbe essere che vengano aggiunti dei servizi XYZ a questo plugin di fatto chi ha sviluppato il plugin ha sviluppato solo il tool per caricarli e poi alla comunità a incrementarlo aggiungendo gli indirizzi non lo rifaccio sono aperto sono aperto nell'altro schermo scusate il more service e quindi aggiorna agli altri spondi che trovate qua sopra comunque al link che leggete e quindi vedrete che trovate tutti invece Stefano mi chiede se può aggiungere lo WMS quello assolutamente sì verrà stampato la risposta è sì ovviamente compatibilmente con i limiti di stampa eventuali del WMS quello che si riesce a stampare da desktop si dovrebbe riuscire a stampare da web quello che non si riesce a stampare da desktop non si riesce a stampare da web e invece Francesco chiede come fa a rendere la tabella esportabile in csmu excel o vettoriale in shape di xf su questo gli risponderò dopo la pausa e non subito dopo la pausa è uno degli argomenti diciamo della prossima ora e mezzo e quindi non fugo la risposta spero che non debba ok spero che a meno che non debba scappare nel caso gli risponderai in diretta ma è uno degli argomenti preannuncio per non lasciare troppo a sosparsa che dovremmo attivare il servizio WMS poi spieghiamo spieghiamo dopo come per ora mi limito a questo allora dire proporai effettivamente per riuscire a parlare meglio anche di fare appunto qualche minuto di pausa e leggo comunque le domande in chat quindi poi semmai riprendiamo anche prima riprenderei poi con la spiegazione dalle 5 direi 17 7 ma ovviamente rimango per eventuali domande ecco l'ha appena installato dovrebbe essere sufficiente cercare l'applicativo quindi nextcloud e cliccandoci sopra non vi dovrebbe aprire l'iconcina qua in basso lo ti ve l'ho già configurato ma vi dovreste arrivare direttamente alla finestra impostazioni anzi aggiungo di più forse dovreste arrivare alla prima volta mi correggo dovreste arrivare direttamente a alla finestra aggiungi account a questo punto bisogna cliccare su accedi indicare l'indirizzo del server che è quello che è sempre lo stesso quello rimasto in chat lo riporto insieme all'utente password così se la chat di zoom ha una intelligenza un algoritmo che verifica dirà ma questi questo indirizzo l'hanno messo tante volte e l'utente è workshop direi che fosse e la password era cos'era la password c'è la scritta qua nel foglio davanti quindi vi riporto tutte tutti gli indirizzi quindi l'indirizzo da mettere è quello una volta inserito l'indirizzo successivo mi dice non vai quindi ho inserito l'indirizzo sbagliato un bel ah ti manca un slash posso correggere un un una cosa che ho scritto mi sa di no quindi quello che è scritto in chat rimane in maniera indelebile come un errore matasnale e il resto invece è giusto ovviamente passo lo spero di avere scritti senza errori autografici scusa Silvia che le chiedeva è giusto il secondo non so come si possa cancellare appunto la chat la prima chat che ho scritto successivo a quel punto vi dovrebbe aprire il browser a me in questo momento lo verrà aperto e se procedete dovete semplicemente inserire la vostra utente password facciamo così lo me lo cerco di far aprire qua sullo schermo giusto quindi clicco apri nuovamente il browser non ce l'ha a posto ok quindi questo così si dovrebbe aprire questa finestra accedi utente password a quel punto lo provo a fare così a quel punto vi dice che posso chiudere la finestra e dovreste vedere che dovrebbe avere la possibilità di sicurizzare tutto la server a questo punto potete personalizzare la cartella attenzione però non fare l'errore che è successo prima quando dico personalizzare la cartella significa dirgli una cartella del computer che posso salvare dove voglio ipotenziamo di andare in documenti ma non dargli i documenti se no mi sincronizza tutti i documenti quindi devo dirgli il nome di una cartella vuota che posso chiamare workshop e dirgli di sincronizzare tutto dentro workshop quindi selezionare questa cartella vuota non lo faccio nel mio caso perché non sto ripetendo e poi connetti una volta scelta la cartella se no potete lasciare benissimo anche nel cloud base quindi spero di aver rilustrato è tutto spiegato anche passo passo nelle slide chiaramente le slide sono già su next cloud ma arrivarci da web dovrebbe essere semplice nel frattempo tanto sono i 17.1 vedo delle varie domande in parte in privato in parte no ok allora una domanda in privato un po' lunga riguarda i servizi cioè caricare dei servizi WFS su QGIS e pubblicarli cosa che anch'io penso sia possibile peraltro ho letto la mailing list la richiesta e direi che rimando a quella risposta anche tra l'altro è una domanda scritta sulla chat ci risentiamo tramite mailing list per quello che dovrebbe essere possibile confermo l'hanno mai testato e non ho avuto non sono riuscito a testarlo tra ieri e oggi ma è una cosa assolutamente possibile Giovanni chiede se vuole impostare un sistema WebGIS per una pubblica amministrazione che impostazione consiglierei beh molto variabile diciamo tutti i software che avete visto ora sono ovviamente installabili su qualsiasi server io consiglio di utilizzare dei server Linux per questo tipo di applicazioni sono decisamente meglio supportati e cosa installabili tutti i software forse se dovessi installarlo per una pubblica amministrazione noi l'abbiamo già installato in alcune pubblica amministrazioni sarebbe da valutare se usare effettivamente Nextcloud o se usare una qualsiasi impostazione di rete già presente normalmente in infrastruttura di una pubblica amministrazione come anche di un'azienda privata se fosse nel senso che andrebbe benissimo anche una cartella di rete qualsiasi di quelle che comunemente utilizziamo anzi alla quale posso dare accesso alle singole persone che hanno singole persone singoli gruppi che hanno che hanno necessità di modificare i progetti QGIS e dopodiché poi vedremo dopo un attimo come configurare perché ci arriveremo poi arriviamo alla parte relativamente ai permessi di Leasmap ovviamente andranno opportunamente configurati i permessi di Leasmap noi vedremo la parte di configurazione di utenti e gruppi di utenti faccio presente che ovviamente nel nostro server non è collegata a nessun servizio L-DAP o di altro tipo ma si potrebbe tranquillamente per esempio collegare a un servizio L-DAP quindi di fatto se dovessi installarlo in una pubblica amministrazione potrei installarmi cioè potrei o posso avere delle scelte diverse se o faccio tutto in cloud e scelgo uno dei servizi che è in cloud oppure mi installo QG server quello lo posso installare diciamo o in cloud o in locale è chiaro che poi devo renderli devo fare in modo l'unico ecco l'unico vincolo è che la cartella dove ci sono i dati ho detto prima può essere benissimo una cartella di rete è evidente è chiaro che deve essere una cartella nella stessa infrastruttura possibilmente nella stessa infrastruttura dove di sede QG cloud perché perché se vado a pubblicare dei dati lì sopra abbiamo già sperimentato abbiamo provato in passato ha testato diciamo il caricamento dei dati con cartelle di rete esterne e per quanto la velocità sia veloce è evidente che c'è un un problema di dovuto alla rete per cui diciamo che l'infrastruttura di rete dovrebbe essere la stessa quindi dovrebbe essere può non essere lo stesso server cioè nella dieta che i dati siano su una cartella di rete ma nella stessa infrastruttura dati ecco quindi lo stesso server farm chiamiamola così come a tempo volete mi chiede geolux se geoserver o qg server sono installati su next cloud no c'è qg server è parallelo a next cloud sono due strumenti paralleli sono installati entrambi sullo stesso server questo sì ma solo due servizi paralleli e come dicevo prima ecco questo non vorrei che ingannasse noi abbiamo usato next cloud e continuo a pensare che sia un ottimo strumento ma è una possibilità assolutamente slegato da qg server è una possibilità per sincronizzare i dati con il server come dicevo prima rispondendo invece a Giovanni D'Amato che mi chiedeva per una pubblica amministrazione potrebbe andare benissimo al posto di next cloud un samba qualsiasi che che gestisce normalmente tutte le le cartelle di rete che probabilmente il 99 non il 90% il 99% di noi utilizza giornalmente e la registrazione sarà resa disponibile saluto Alessandro sarà resa disponibile fra un po' perché stiamo stendo pubblicati ancora si sta lavorando l'associazione sta lavorando alle vecchie pubblicazioni e aveva già risposto Federico quindi sono in ritardo e nella lettura dell'elenco dei repository nel browser dove posso vedere il mio progetto per vedere le fotografie in tempo reale allora la domanda non mi è chiarissima presuppone tra l'altro in parte forse gli risponderò dopo in teoria nell'elenco ah nell'elenco dei repository l'elenco dei repository per se entrate con l'utente la password procedendo da diciamo dall'indirizzo gsosting.g3.it mettendo login mappe inserendo utente password dovreste arrivare già al repository che è un repository pubblico con l'elenco delle mappe qua qua dentro ci sono tutte le mappe presenti nella cartella presenti e sincronizzate nella cartella locale quindi qua vedo che ci sono due probabilmente non ho aggiornato ci sono vari progetti ogni progetto di questo tipo dovrebbe più o meno corrispondere poi ora procedo anche dopo questa altra tornata di domande andiamo avanti anche perché alcune delle cose che dirò dopo risponderanno anche come parzialmente a questa forse a questa domanda a cui sto rispondendo in diretta e qua dentro trovo tutte le mappe che hanno il file QGS e il file CFG dall'altra parte vedo che qualcuno mi ha già seguito webinar passato quindi ha già proseguito con quello che farò vedere subito dopo cioè cambiare il titolo non mi piace che che compaia il titolo cioè non è detto che il nome vi ho detto prima quando salvate usate nome underscore cognome vi ho detto non usate gli spazi è chiaro che il titolo può avere degli spazi dentro e può avere anche roba che non è il nome che non sia il nome underscore cognome e quindi ora vediamo vediamo come farlo come fare e tornando al chat vediamo se non perdermi nulla ultima domanda direi che dice ovviamente va benissimo installare tutto su una macchina virtuale con tutte le installazioni va assolutamente benissimo sì quando parlo di server può essere un server fisico ma anzi preferibilmente un server virtuale per chi lavora e utilizza un po' anche i container direi che trova a disposizione sicuramente il container docker sia con QG server sia con litsmap e non li ho ancora testati devo essere sincero i container quello di litsmap in particolare e quindi non so se quello di litsmap ha anche al suo interno installato QG server immaginerai di sì e quindi basta se basta un container solo o se occorre utilizzare due container che si ovviamente che condividono la stessa network quindi per chi macchine virtuali server o eventualmente anche docker per chi è esperto di containerizzazione e l'utente e la password per i repository sono gli stessi del di nextcloud il workshop e fosforilite 2020 perfetto procedo appunto come dicevo con due passi di per sé prima poi di arrivare al al succo al discorsi relativi un po' più al all'editing all'editing e al download proseguo con ancora un po' di cose semplici così non che editing e download sia semplice e solo dicevamo due cose titolo e si no cominciamo dal titolo che è la cosa più semplice poi se riusciamo in realtà quello ce l'avete anche sulle slide ma anche il cambio del logo tanto una cosa relativamente semplice e anche rapida titolo del progetto e così arriviamo finalmente anche al discorsi WMS Welfast e vari vado su QGIS progetto non ho cambiato la lingua anzi se riesco a prima di farlo non c'entra nulla mi torno al non lo fare nel torno all'italiano messaggi naturalmente devo riavviare QGIS no sì temo sì non lo devo fare però quando apriremo il prossimo progetto poi passerò a farvi vedere un altro progetto dopo almeno sarà in italiano per ora con il dati di versione inglese sì devo riavviare non ho voglia di farlo ora per non perdere il tempo andiamo sulle proprietà del progetto e sono già io sono già su QGIS server ma se voi normalmente sarete in generale che vi dice diciamo dov'è salvato il progetto se andiamo sulle proprietà del progetto QGIS server vedete subito che c'è un questo menu mi gestisce diciamo è il menu abbastanza fondamentale che gestisce come vengono pubblicati i geoservizi WMS WFS eccetera tanto è vero che scorrendo comincio a trovare i WMS capabilities le WMS capabilities le WMTS capabilities le WFS capabilities qua arriviamo alla risposta cominciare a rispondere a in parte solo in parte a Massimo no Francesco scusate che prima mi chiedeva per il download grazie Federico che ha messo la guida di passaggio per installare su macchine virtuale QGIS server le WMS torniamo però al un po' esagerato con la precisione le WFS torniamo al nostro titolo titolo lo trovo vedete subito qua sopra vi chiedo la cortesia di lasciare un'indicazione magari tra parete come ha fatto già qualcuno di voi nome e cognome anche usando gli spazi giusto per non confonderci così uno può andare a vedere il suo progetto e poi lo può chiamare come vuole per esempio lo chiamerei palazzi di Erol o ovviamente pibo.vaparino posso specificare altre informazioni che verranno che compariranno dove compariranno compariranno nel menu informazioni come al solito qua metto un da 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 e WMS e Kappa Minis queste sono attenzione questa è l'estensione dei servizi WMS da non confondersi con l'estensione del attenzione a non usare a usare con cautela il map canvas vedete se io per esempio ora cliccassi su use current canvas extender attenzione perché mi selezionerebbe solo questa parte di mappa e quindi poi i miei servizi WMS probabilmente non funzionerebbero bene quindi questa l'estensione da usare con il sistema cautela perché deve comprendere tutto quello che voglio pubblicare molta attenzione a questo soprattutto quando aggiungete un layer e poi ne aggiungete altri che abbiano estensioni differenti questa estensione potrebbe essere da da cambiare da personalizzare in generale deve essere il più estesa possibile tutto quello che devo pubblicare deve essere compreso dentro di questa estensione questo è assolutamente fondamentale spesso è una delle origini di alcune possibili problematiche per velocizzare un po' consiglio di questa opzione in questo caso non è particolarmente utile nel senso che non richiede granché altra cosa soprattutto lavorando con dati metrici che io non so quanto impatti sulla velocità però riduco normalmente è la precisione del get feature info che sono le richieste che vengono fatte quando interrogo un dato con una precisione di otto cifre decimali con dati metrici non ha sconsenso e quindi la riduco e comunque per poco che mi rallenti qualcosina potrebbe rallentare nella visualizzazione e quindi queste sono due modifiche che posso fare che non costano nulla le faccio una volta le salvo e rimangono poi torneremo al discorso vfs che in questo caso che si può pubblicare come no non pubblicarlo vuol dire che quel dato non sarà scaricabile pubblicarlo vuol dire che quel dato potrebbe essere scaricabile poi sul fatto che sia scaricabile o meno dobbiamo dire ancora qualcosa quindi una piccola una metà della risposta a Francesco lo ho data il resto della risposta invece devo ancora dargliela ma ci torneremo e stesso discorso per l'UCS parentesi ovviamente qua vediamo la parte tecnica poi attenzione a quello che rendete scaricabile nel senso che attenzione al discorso di censo o altro ma non non ci entriamo perché è un argomento del del giorno e quindi progetto cambiato cioè il titolo del progetto cambiato su list non dovevo fare particolari modifiche allo stato attuale e applica vado a vedere a ricaricare il mio progetto web qua non lo troverò più col nome Roberto ma lo troverò con il titolo modificato eccolo qua e vedo che probabilmente anche voi mi avete preceduto mentre vi parlavo carico la mappa nelle informazioni vedo le cose che ho scritto vedo un link ai servizi WMS non c'è link ai servizi WFS ma sarebbe analogo questa sia una secondo me un'opzione che si potrebbe per cui si potrebbe aprire una feature request anche se poi basta sostituire WFS con WMS questo è ovviamente i servizi WMS sono collegati a un progetto QGIS tutti i servizi WMS di QG server quindi in questo caso avrei un solo layer ma se avessi tanti layer caricati nello stesso progetto a questo link qua saranno pubblicati tutti i vari WMS e questo link qua lo potrei caricare tranquillamente su un progetto QGIS noi abbiamo ecco cosa che può essere comoda noi abbiamo tranquillamente utilizzato i servizi WMS creati con Lismap anche in altri mappe web non infatti con Lismap sfruttando in questo modo tutte le diciamo potenzialità di QG server perché ci è capitato appunto di avere era un piano di protezione civile dovevamo pubblicare in un web che non era fatto con Lismap questo piano di protezione civile ci è stato fornito due giorni prima della consegna del lavoro dal professionista che l'avevano analizzato per fortuna avevano usato QGIS e abbiamo chiesto di fornirci poi ce l'hanno fornita la metà di fornirci gli stili se possibile quelli che non ci hanno fornito con QGIS li abbiamo analizzati e messi caricati abbastanza al volo e poi abbiamo preso il servizio WMS e l'abbiamo caricato sul web se in quel caso era analizzato con Liglet può essere ovviamente integrato anche in web GIS esterni in client esterni e altra cosa piccolina che vogliamo fare altre due cose che vogliamo fare in questo momento non c'è niente di interrogabile quindi ora vogliamo interrogare capire come interrogare i layer in questo caso il layer dei palazzi dei rolli beh è estremamente semplice io anticipo ho risposto a una serie di domande quindi ora vado anticipando un po' di possibili domande spero troppo ovviamente chiedete pure e quindi i palazzi dei rolli quello che succede ora se interrogo è che recupero una serie di informazioni eccole qua e voglio fare la stessa cosa su web come farlo vado su plugin listmap nel menu layer clicco su layer che voglio rendere interrogabile e clicco su pop up non devo fare praticamente nulla automatica e lui prende ovviamente prende nel pop up e vi farà visualizzare le informazioni dei palazzi dei rolli informazioni che potrei voler personalizzare ora vediamo come quindi automaticamente così ok progetto salvato aggiorno ovviamente devo sempre aggiornare il progetto ora se clicco sul mio palazzo sta chiedendo dell'annunziata e vedo tutte queste informazioni ecco che io ho questa serie di campi che non vorrei far non vorrei far vedere ok vorrei far vedere probabilmente solo la destinazione la destinazione e quest'altro e magari vorrei vorrei anche cambiare un po' il nome e cambiare il nome del campo togliendo gli underscore mettendo le tre minuscole e via discorrendo tutto da QGIS quindi proprietà del layer proprietà dal menu fields campi in italiano posso decidere cosa viene pubblicato come servizio WMS e cosa no se io spunto purtroppo non c'è un pubblica tutto o spunta tutto o meno non ricordo potrei dire un può essere ora io sto usando la versione LTR non escludo di aver letto qualcosa che nelle versioni più recenti ci sia un qualcosa però non ricordo può essere anche che mi confonda anzi è probabile e lascio solo il mio nome palazzo indirizzo ovviamente lo scopo non è creare il pop up perfetto ma far vedere come funziona tobbiamo un gid vediamo tutta attuale e facciamo di per sé potremmo fare ok o applica clicco un attimo su applica perché oltre con questo decidono se visualizzarli o meno se pubblicarli come servizio sommesso o meno attenzione visualizzarli ma anche in realtà tutto quello che è superfluo meglio non pubblicarlo perché ovviamente una velocizzazione nel servizio promessa è vero che questo impatta solo sulle get future info però anche su quello mi viene restituito evidentemente in maniera più rapida stesso discorso per i WFS per eventualmente le tabelle attributi le ricerche tutte queste cose qua è chiaro che meno roba pubblico più potrebbe essere veloce quindi allo stesso modo potrei spuntare alcuni servizi WFS e poi nell'attribute form posso specificare per esempio che il nome palazzo voglio chiamare nome con la N maiuscola e via discorrendo non sto a riscrivere tutti con l'alias diciamo che vado a precisare come voglio personalizzare i miei campi non ho salvato il progetto infatti mi sembrava parlando mi sono distratto mi basta cliccare su ok automaticamente vedete che mi scompare l'asterisco salvato e do sempre il tempo di sincronizzare aggiorno e i miei il mio pop up risulta un qualcosa di un po' più leggibile ora probabilmente da distante hanno interrogato i due cos'altro potrei ovviamente cambiare il colore modificare lo stile ai layer e automaticamente avrebbe tutto questi ok nel frattempo ok una domanda che non c'entra con me Nicola mi conferma che nella nella versione tra sedici non era un sogno o che nella serie tra sedici facciamo una tendina e non delle checkbox perfetto e i dati mi chiede Nicola i dati appartengono al layer sì sì tutti questi dati appartengono a questo layer palazzi rolli la ragione per cui ho caricato il gemelle non ho scaricato lo shape proprio che quelle colonne con più di 250 caratteri lo shape non avrebbe troncate o almeno forse nell'ultima versione del del DBF è consentito anche in qualche modo andare oltre i 250 caratteri 254 che ci vediamo in quanto sono ma in passato non era sicuramente possibile quindi la ragione per cui è salvato con il gemelle è proprio quello e sono dati appunto estratti dal dal portale del comune di Genova a proposito di dati presenti se io mi riapro la tabella attributi e poi per diciamo chiudere la parte che riguarda i diciamo questo mini esempio all'anetto di eventuali domande e per andare un po' più sul discorso di smapp permessi e editing finalmente c'è un campo con il nome di alcune foto lo vedete qua quindi c'è un file .jpeg ora io queste foto le abbia caricate dentro la cartella media che io ho detto non va cancellata usata e le abbia caricate in questa cartella fotorolli quindi più o meno ad ogni palazzo dovrebbe corrispondere la la sua foto e non c'è una corrispondenza uno a uno può essere che qualche foto manchi peraltro un esempio che uso usiamo più più volte quindi a questo punto come posso posso collegare le le immagini al al a questa a questa colonna chiaramente devo lo so un piccolo problema vi metto poi c'è un piccolo problema non ho tutto pronto non ho la propria pronta in questo caso poi vediamo anche come con l'editing invece gestirlo perché poi io potrei le foto caricarle da file o addirittura se fossi da mobile scattarle quindi da lì io clicco su foto sono su un tablet clicco su foto e mi si apre mi fa scegliere fra una cartella oppure scatta foto quindi potrei addirittura scattarla la foto se fossi da mobile in questo caso partiamo dal contrario cioè noi abbiamo già qualcuno che si è fatto diciamo il lavoro per noi e ci ha completato il nome delle foto del palazzo dobbiamo semplicemente dirgli dove sono queste foto e quindi cosa facciamo col calcolatore dei campi gli indichiamo il percorso quindi creiamo un campo virtuale in questo caso campo virtuale di testo che chiamerò immagine esempio e il campo virtuale facciamo una concatenazione di stringhe e ci mettiamo quindi uso poi vi copio l'espressione se volete ci mettiamo la cartella media vediamo se non mi ricordo mai lo slash ma direi che dovrebbe essere così media slash foto underscore rolli chiuso apice questo non stinga di testo lo concateno al campo foto che mi vado a prendere per evitare di iniz campo foto chiudo la parentesi l'esempio mi sembra corretto a questo punto clicco su ok e ho il mio campo virtuale col percorso alle foto che dovrei spero di aver scritto correttamente poi vi metto il dovreste riuscire a ripicare anche voi ma nel caso vi metto comunque faccio copia in colla verifichiamo di aver fatto tutto correttamente e poi vi metto copia in colla dell'espressione a questo punto andiamo in immagine diciamo che modifichiamo il widget affinché non sia un testo ma affinché si veda l'allegato in italiano l'allegato ovviamente vi dico che il percorso è relativo e in fondo devo dire che è un'immagine in questo caso mi fa scegliere fra altri anche fra ad altro scusate ho sentito qualche altra chat non della chat del progetto e di zoom a questo punto faccio ok e vediamo se su QGIS già una prima indicazione di aver fatto le cose di aver eseguito tutto correttamente è aprire qua non si vede l'anteprima quindi già forse ho sbagliato qualcosa ho sbagliato banalmente manca uno slash ho sbagliato per forza e quindi vedete che ha fatto bene a non copiarla ancora quindi vado nelle proprietà del layer ovviamente l'avete già vista voi l'immagine non l'ho vista io cambio l'espressione manca uno slash e ok ok a questo punto reinterroghiamo e speriamo di vedere vediamo la nostra immaginina bene così a questo punto se salviamo dovremmo vedere la stessa cosa anche su web quindi andiamo sul nostro progetto lo aggiorniamo e interroghiamo mi sa che non ha aggiornato ancora il vediamo se ho salvato tutto ma non abbiamo fatto ho detto salviamo ma non ho mica salvato quindi ok ora ho salvato e comincio a guardare colpi anch'io dopo tre ore di e quindi clic e ora confidiamo di vedere la nostra foto preannuncio anticipo qualche domanda pop up lo vedo da questa parte posso cambiare ovviamente sì cosa rapide ma ma opzioni di mappa in fondo dove contenere le pop up doc che è quello che vediamo da quella parte sulla mappa il classico pop up in mezzo alla mappa sotto a resta sinistra insomma dovunque ci sono varie opzioni che potete testare io personalmente apprezzo sempre quello che preferisco è il map però poi è una questione di gusti anche vero che forse è uno dei più disordinati il map comunque per capirci è quello che lo ha per diciamo sulla mappa è uno dei più disordinati nel senso che chiaramente poi devo navigarlo e l'altro svantaggio che vi lascia aperto un po' tutto quello tutto lo resto che avete tutto ciò che avete aperto in più benissimo cioè benissimo spero quindi che tanto vedo un po' di roba abbiamo già capito senza programmare veramente nulla cioè la portata veramente di chiunque anche non abbia grandi competenze web insomma al netto del discorso installazione cos'è l'application server queste cose qua l'utilizzo come vedete è il grosso vantaggio che l'utilizzo veramente la portata basta conoscere QGIS in maniera discreta senza nemmeno essere poi il massimo esperto mondiale di QGIS dicevo vediamo come per esempio fare altre funzioni sempre da Pragilism come la ricerca se io volessi impostare una banale ricerca per palazzo in questo caso se fosse il layer dei comuni una ricerca per il nome del comune all'interno della regione mi sposta sul mio comune e così via la ricerca si fa vedete che qua c'è un menu locate by layer la ricerca lo dicevo prima a livello teorico quando ho detto gli vuoi messere l'agenziata dell'entrata e si può poi usare per fare la ricerca no perché ho detto bisogna avere il dato vettoriale la risposta è bisogna avere il dato vettoriale noi palazzo in questo caso abbiamo un dato vettoriale ma deve essere attivato e non ricordo se lo abbiamo fatto il servizio web fs se lo abbiamo già fatto lo posso fare non mi darà errore quindi io altrimenti quando cliccherò su ok mi darà un errore non mi ricordo alla fine avevo parlato molto sul discorso web fs mi sembra di aver cliccato e aver detto abbiamo fatto il primo passo per renderlo scaricabile e non solo e quindi layer su cui voglio fare la ricerca dico che voglio fare la ricerca per nome palazzo volendo si può fare un raggruppamento cos'è l'aggruppamento facevamo prima l'esempio dei comuni se voi aveste nome comune nome regione oppure nome comune nome provincia potreste fare un raggruppamento per provincia cioè invece che cercare tutti i comuni o a lei avere dei comuni della regione Liguria non voglio cercare di tutti voglio velocizzare faccio un raggruppamento per regione per provincia e quindi mi filtra quindi scelgo la provincia di Genova all'interno della provincia di Genova o viceversa la provincia stesso discorso lo trasformate in regione in comune regione provincia e così via o l'esempio classico per tornare al caso di prima foglio particiana catastale non devo avere tutto in un unico campo ma posso fare un raggruppamento per gruppo quindi prima mettere il gruppo dei fogli e poi il numero e posso decidere di farmi di farmi di evidenziarmi la geometria che ha selezionato faccio ok avevo salvato avevo cliccato sul flag UFS e quindi se torno all'immagine al webgist a questo punto vedete che mi è comparso in alto questo menu localizzazione che posso accendere o spegnere e qua trovo tutti i miei i miei nomi clicco sulla chiesa di San Siro e mi localizza sulla chiesa di San Siro e stesso discorso sulle altre palazzi San Luca e così via e se volessi in maniera avete visto anche questo senza si possono fare fino a un massimo di tre ricerche e poi comincia a diventare obiettivamente anche poco comprensibile anche per l'utente quindi si può scegliere di fare una ricerca su tre leader o anche sullo stesso layer due ricerche diverse se fosse necessario tenete presente che poi viene visualizzato tutto in questo questo menu qua quindi ripeto da usare da scegliere se va bene tra un ottimo numero nel senso che poi diventa già con due in certi progetti l'ho visto fare lo facciamo comincia a diventare poi è complicato per l'utente capire cosa fanno le due ricerche si può fare ma ovviamente poi sono discorsi soggettivi questi e lo stesso con lo stesso identico principio si può visualizzare per esempio la tabella attributi deve essere cvfs attivo attribute table scelgo quale tabella visualizzare deve avere una chiave primaria posso decidere quali campi nascondere di film foto scheda roll di unesco decido che li nascondo e faccio ok visualizzo la tabella attributi nel mio tastino scusate aggiorno mi compare un tasto con cui visualizzare le tabelle attributi in questo caso non sono uno ma potrei caricare tutti gli area vettoriali che ho dettaglio e mi carica la mia tabella e la mia tabella con la descrizione la varia ovviamente i campi che ho nascosto i campi li posso nascondere o in quel modo lì oppure li potrei nascondere anche togliendo il flag vfs cioè senza il flag vfs il campo qua non lo vedrai non sarebbe nemmeno necessario nasconderlo anche da qua posso selezionare quindi se lo seleziono allora dovrei non so cosa ho selezionato lo dovrei vedere selezionato ah sì a questo qua ok posso fare lo zoom su un layer posso centrare la mappa posso centrare la mappa su questo o su questo ovviamente mi centra la mappa zoom l'ho già fatto in questo caso e oppure selezionare entrambi selezionare uno la selezione posso invertire la selezione una serie di strumenti posso fare dei filtri sono andato di questo posso fare la ricerca e poi selezionare le righe cercate selezionare tutto questo era sulle selezioni posso mostrare le informazioni mostre le informazioni me le mostra qua a fianco poi ogni tanto le ho raggiunte delle funzioni e poi infatti dico tasto esporta in questo caso come gml o json mi sfugge per quale per quale ragione perché in teoria dovrebbe esserci in teoria sono sentiti anche altri formati probabilmente c'è qualche problema di aggiornamento del server questo per per causa mia e in teoria ci sono consentiti anche altri formati in realtà non di base questi sono i formati che che esporta in realtà QG server c'è un plugin di QG server dovrebbe essere installato credevo che sia installato che ho aggiornato pochi giorni fa che consente anche che si chiama vfs output export comunque trovate nel menu dei plugin di QG server che se installato sul server consente anche l'esportazione in shapefile in css in in excel probabilmente l'aggiornamento che devo di aver fatto non è dato a buon fine e questa il tasto esporta è possibile solo ovviamente con se l'ufs è attivato l'abbiamo già detto ed è possibile e qua entriamo in una in una famiglia è possibile per i gruppi di utenti accreditati e qua entriamo in un argomento a parte su cui dobbiamo dire ancora qualcosa questo tasto informazioni o questo tasto qua che viene tradotto come documentazione è il link quel link che avevamo aggiunto di cui poi non avevo detto nulla che avevamo aggiunto al nostro tramite il plugin mismap al nostro file e quindi mi apre il link che avevamo caricato noi gli avevamo detto noi di caricarlo e qua entriamo vi dicevo allora Nicola dice che se ha la selezione di non usare i campi nel servizio ufs si vedono ancora allora dipende dove si vedono ancora nel senso che quando interrogo l'edificio lui usa il servizio vms quando visualizzo la tabella attributi lui usa il servizio vfs quindi quello che deseleziono come vms da qua non lo vedo interrogando vedete che qua ci sono un nuovo palazzo indirizzo qua c'è quello che ho nascosto dal plugin mismap ma tutto il resto c'è ancora ok ora in termini indirizzo c'è molto tutti questi numeri vostri ci sono ancora perché perché come vfs io non li ho spuntati cerco di spiegarmi meglio properties poi magari invece potrebbe riprendere da 316 come dice Nicola ma in realtà c'è vms e vfs quindi posso decidere uno e l'altro e l'altra cosa con cui posso controllare lato tabella lato attribute table è da qua nel senso che qua io posso decidere devo selezionarlo prima di decidere quali campi nascondere i campi che ho deciso di nascondere non vengono visualizzati anche se il servizio vfs è pubblicato il fatto che il servizio su vfs è pubblicato vuol dire che il download del dato mi cioè il fatto che io li nasconda da qua cosa significa significa che nella tabella sembrano tutte cioè effettivamente mi rendo conto che questi concetti sono significa che nella tabella di leadsmap quindi lato client non vengono visti ma lato vfs ci sono cosa vuol dire vuol dire che se io scaricassi lasciate chiedo scusa per il fatto che non si veda lo shape file ma se scaricassi lo shape posso scaricare comunque con il json la stessa cosa se scaricassi lo shape o il csv vi assicuro che è possibile lo sarà da stasera stessa perché è una cosa che sisteme del dato ci sono tutti i dati c'è anche il feed c'è anche la foto tutto possiamo provare a farlo ma lo do abbastanza per certo e invece da qua sono nascosti perché li abbiamo nascosti tramite plugin di leadsmap quindi questo poi dopodiché non so se invece c'è qualche problema legato alla 3.16 che non posso escludere non mi sento di escludere che invece non fa funzionare correttamente col server che invece è ancora la 3.10 il il discorso UMS UFS anche quello può essere è la ragione per cui vi consiglia vi dicevo tendenzialmente non ci dovrebbe essere provvedo usare anche altre versioni di QGIS ma in certi casi potrebbe esserci qualche incongruenza l'ideale è appunto avere più o meno la stessa versione se non altro la stessa macro versione per se io la 3.10 12 non è ancora aggiornata la 14 che è uscita la settimana scorsa poco importa ok perfetto quindi allora Nicola direi che mi ha nell'interrogazione con le click sull'oggetto dal preghilismo invece mi nasconde nella tabella ok e allora magari è un problema se non prende effettivamente il flag WMS quella se ci siamo a prima tra qualsiasi dice o altro Nicola dice realizzo una web map come faccio a farla vedere un'altra persona come devo fare ovviamente nel momento in cui il server deve essere un server pubblico in questo caso è ad accesso pubblico e qua arriviamo al discorso permessi allora questo discorso permessi per cui ho costruito prima della proposta questa mattina questa questa mini grafico ho preso veramente un grafico abbastanza al volo che però spero lo centriamo un attimo spero che lo riusciate a vedere abbastanza bene lo grandisco il più possibile chiarisce abbastanza c'è anche sulle slide però lo prendo da qua in diretta spero che riesca a chiarire appunto abbastanza come funziona l'eatsmap lato client poi il rispo completo ho lasciato un attimo in sospeso la domanda per nicola ma è utile chiarirla chiarire qualcosina qua farò vedere due schemi non schemi anzi questo schema e poi andiamo sull'interfaccia web client io ho dei gruppi di utenti ho degli utenti che possono appartenere a uno o più gruppi che vanno definiti appunto dal client e sempre dal client definisco i repository come faccio a definire i repository devo definire la cartella del server dove vado a pescare le mie web map in questo caso c'è un repository che si chiama workshop che punta a quella cartella dove noi abbiamo caricato i nostri i nostri dati i nostri progetti QGIS poi il controllo di cosa si può fare avviene anche a livello di progetto questa volta dal client list sia per la visualizzazione per l'editing un po' per tutte le funzioni per forse per il download no l'unica cosa che non si può fare è l'altro progetto in che modo partiamo dal fondo poi andiamo un attimo dal fondo progetto io posso dire se vado no scusate torno a QGIS e vado su list map e nel menu opzioni mappa posso posso limitare per esempio l'accesso a un singolo gruppo di utenti allo stesso modo se vado su layer posso fare in modo che i palazzi dei rolli li veda solo un determinato gruppo di utenti allo stesso allo stesso modo direi sull'archive table non credo o forse sì vediamo non ricordo la memoria no direi che da qua non si può controllare quando arriveremo a parlare di editing questo sì l'editing io vabbè ora non posso non possiamo ancora dire niente ora poi arriviamo all'editing l'ultima ora li chiamo all'editing posso limitare a un certo gruppo di utenti in groups vedete che c'è qua il livello di gruppo quindi un controllo lo posso fare direttamente sul progetto torno un secondo allo schema perché è una questione leggermente delicata il controllo che io faccio dal progetto è l'ultimo livello di controllo prima c'è un controllo che faccio sul repository e che gestisco ovviamente con gli utenti e i gruppi andiamo cerchiamo di capirlo di capire meglio in questo caso questo non lo potete vedere voi nel senso che voi non siete amministratori di questo server quindi dovete vederlo necessariamente da lato 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 amministratore esco e rientro ovviamente con amministratore in quanto amministratore io vedo tutto e se vado nel gestione delle mappe vedo i vari repository a questo punto cerco il mio repository workshop e andiamo a vedere cosa è impostato sul repository workshop nel repository workshop gli do il percorso a una certa cartella questo che vestisce il proprietario del repository gli ho impostato questo flag che consente di personalizzare i repository quindi quello che vi consente o meno per esempio di cambiare il logo cosa che non so se riusciamo a vedere ma ve la lascio sulle slide per tanto è veramente molto semplice da fare se poi si riesce la faremo alle 6 e 25 e poi e qua completo la risposta alla domanda di Nicola come faccio a farla vedere un'altra persona e poi posso controllare i vari permessi per esempio posso dire se il mio repository è come in questo caso pubblico cioè lo vedono tutti o meno ora io vi ho fatto accedere loggandovi ma voi quelle mappe le vedevate anche non loggati anche senza utente password era sufficiente andare in questo caso il problema è che non avevate un link diretto e quindi per velocizzare vi ho fatto andare lì ma se vi ho fatto andare direttamente alle vostre con login e password ma se voi andate sempre sul sito Giz Hosting e andate sulle mappe pubbliche scopri di più le mappe pubbliche cioè ora io sono loggato quindi mi riconosce come loggato ma voi vedreste quindi io vedo anche molta più roba di voi voi vedreste se cerco un Roberto c'è altra roba ma l'anzi dei rolli vedo tutto vedo comunque vedo il reposito di pubblico facciamo un ctrl f di workshop ok quindi lo vedo anche ora io sono loggato quindi voi dite me lo stai vedendo perché sei loggato ma vi assicuro provateci a sloggarvi non lo faccio perché sennò poi dovrei loggare provate a sloggarvi vedrete che assolutamente è tra le mappe pubbliche mi è stato perso quindi decido che lo posso vedere in questo caso io ho deciso che lo possono vedere tutti gli amministratori e lo possono vedere e quindi appartenere gli utenti del gruppo workshop la visualizzazione dei WMS di nuovo decido chi lo può vedere e poi arriviamo allo strumento edizione decido chi può usare l'editing in questo caso io ho detto che l'editing su questo progetto arriviamo al punto delicato non si può ancora fare ma dico la ragione però anche se si potesse fare lo possono fare solo gli amministratori e gli appartenenti al gruppo workshop in questo caso c'è un solo gruppo ma uno potrebbe crearsi più gruppi oppure ancora l'esportazione layer in questo caso non so perché l'avevo lasciata a tutti ma potrei decidere che invece non tutti possono scaricarlo e quindi solo chi ha utente pass può scaricare i dati è una scelta ovviamente di dell'utente che in questo caso può fare l'amministratore poi va bene è tutto controllato da un database quindi c'è anche ci possono essere anche interfacce alternativa a questa anche ancora più semplice ad esempio ne abbiamo realizzata una un po' più semplice per l'utente che non ha i privilegi di amministratore comunque per controllarsi i suoi utenti e poi l'ultima opzione quella personalmente la ritengo quella leggermente le altre sono abbastanza evidenti editing esportazione dei dati questa è quella che mi consente di mostrare i dati completi anche se filtrati dal login cosa vuol dire? vuol dire come abbiamo visto prima ci sono alcuni dati che io posso filtrare cioè posso fare in modo che la persona non veda un determinato layer oppure oppure c'è proprio un menu io personalmente l'ho usato molto poco ma perché bisogna trovare il caso specifico c'è un menu da da Nismap che si chiama filter layer by user io posso specificare ipotizziamo palazzi dei rolli diciamo ipotizzare che la destinazione attuale la veda no scusate la veda solo un determinato utente determinati utenti però forse anche questo avviene sul diciamo no questa ho detto una cosa errata scusatemi scusa qua dentro andrebbe selezionato un campo in cui quindi questo filtro layer per utente vi consentirebbe specificando un campo dove dovrebbe essere indicato il nome di un utente di vedere solo determinati determinati elementi quindi in sostanza vi filtra proprio i record record dove c'è scritto che lo può vedere solo un utente Mario Rossi scegliendo un campo dove dovrebbe essere scritto Mario Rossi Mario Bianchi e Mario Gialli ovviamente nel campo utente c'è scritto Mario Rossi solo Mario Rossi potrebbe vedere quel dato così come la visualizzazione del layer tuttavia scegliendo che un determinato gruppo per esempio il gruppo amministratore possa comunque vedere tutto il gruppo amministratore vede tutto in ogni caso quindi quest'opzione qua è da usare se serve si può utilizzare se non serve naturalmente si imposta che l'amministratore vede tutto o si imposta che nessuno vede tutto dipende un po' come è una scelta è quella forse anche meno utilizzata però comunque è un'opzione in più però molto importante il discorso invece relativo all'esportazione e all'editing che non basta controllare il VFS bisogna anche dal lato amministratore dirgli quali gruppi hanno il potere di scaricare e barra editare spero perché capisco che sia una questione dunque mi dice Francesco che per l'esportazione deve flaggare e consente l'esportazione non tanto per l'utente quanto per il gruppo in questione quindi basta che quell'utente appartenga al gruppo che ha perché tutti i permessi li do non al singolo utente ma a un gruppo di utenti l'utente può appartenere a un gruppo o a più gruppi non si può assegnare un permesso al singolo utente questo no e quindi per l'esportazione le due cose da avere sono attivare il servizio off-s senza servizio off-s non si può esportare seconda cosa essere certi che l'utente che il gruppo di utente possa esportare ovviamente fatto salvo che scelta ovviamente dell'amministratore del gestore ok si può consentire l'esportazione anche a tutti cliccando su anonymous tutti possono esportare Matteo dice che nella repository grazie della domanda perché effettivamente allora Matteo dice giustamente nella repository locale vede tre file confermo il terzo file che vede che è giallo è il file di backup è un file con la tilde non è preoccupante è giusto che sia giallo non viene sincronizzato da Nextcloud ed è corretto che non venga sincronizzato da Nextcloud quindi quel file lì non è un problema direi che non so perché no ce l'abbiamo dicendo ce l'abbiamo tutti ce l'ho anch'io ora io non so perché non lo veda in questo momento verde giallo rosso forse perché però direi che il non è un problema di quel file il problema credo del problema del tuo file è che c'è lo spazio rimuovendo il file dal file .qgs e dal file .qgs .cfg lo spazio non rimuovendo lo spazio confido che la sincronizzazione funzioni e che tu mi dà anche il progetto quindi direi che il problema in questo caso è questo cioè dovrebbe essere rappresentato lo spazio la dimostrazione che non è un problema che il file tilde non sia sincronizzato la vedete in diretta vedete che io vedo il mio file tilde ma non vedo i vostri e stesso discorso voi vedrete il vostro e non vedete il mio ma non è assolutamente un problema è un file di backup ed è voluto che Nextcloud non carichi quel file di immagino che abbia lo stesso problema di Matteo e ce l'abbia anche Luca quindi il mio consiglio è non consiglio anzi in questo caso non è più che un consiglio è una richiesta in questo caso la richiesta era nome underscore cognome così li chiamiamo tutti uguali dopodiché se volete cambiare il titolo lo si cambia dal progetto dal titolo del progetto e comunque gli spazi anche se li avessi chiamati anche se avessi voluto chiamarli in un mio repositori pulito non usato per il workshop chiaramente non avrei fatto 20 progetti identici con i palazzi dei rolli ma avrei avuto solo uno in ogni caso nel titolo non lo avrei chiamato palazzi dei rolli con tanti spazi ma l'avrei chiamato palazzi underscore rolli non lo so che ho il nome più furbo e poi mi sono perso guardando questo gml che c'è e poi nel titolo avrei rinominato il titolo benissimo meno male perché sarebbe stata una in sempre stata la brutta figura dire che il problema era lo spazio per non venire confermati e allora Antonio chiede invece se oltre che dei server virtuali di stazione di pg server si può fare anche in windows subsystem for linux non saprei non ho mai testato può essere non lo escludo non lo escludo però non saprei come e non ho mai letto nulla di in tal senso però in teoria è un sottosistema quindi potrebbe essere bisognerà bisognerebbe riuscire a installare bisogna prima capire se si riesce a installare più che qg server e leeds map che personalmente non vedrei come un problema se si riesce a installare apache o un'alternativa normalmente noi usiamo apache ma c'è anche ngx come possibilità su windows subsystem for linux quindi se si riesce a installare il web server si dovrebbe riuscire a installare anche qg server però però non lo escludo giustamente ricola mi dice che non ha capito cosa ha detto sui file .cfg e forse mi sono spiegato male in tal senso il file .cfg è un file che viene creato da scusate dal plugin leeds map è un file di testo lo possiamo aprire volendo è un file di testo che contiene l'impostazione tutte le opzioni che io ho scelto dal plugin di leeds map pari pari se c'è qualcosa che non torna lo potete verificare da qua in maniera molto trasparente anche se io ora l'ho aperto vi dico subito cercate di non aprirlo troppo perché basta togliere una parentesi una virgola il punto virgola banalizzo ma ovviamente non viene più compreso da l'itsmap e quindi mi verrebbero parole non belle non consone per un webinar quindi aprirlo con cautela il file cfg è fondamentale senza il file cfg il progetto non è pubblicato quindi spero di non essermi spiegato male in realtà però a fianco ai file cfg compare anche un file che è semplicemente cfg con la tilde ed è il backup del file cfg quel file lì non viene sincronizzato perché tanto è semplicemente un file di backup tanto è vero che vedete pesa tanto quanto il file cfg quindi quel file lì io vedo il mio i miei i locali non vedo tutti i vostri ciascuno di voi vedrà il suo che non vede il mio confermo non è editabile in quanto è un gml il file gml non è editabile con gis però il campo virtuale si può creare anche se il campo virtuale essendo virtuale appunto dovresti poterlo creare anche se il file non è anche se col file non editabile scusa per l'impappinamento e quindi semplicemente calcolatore campi e il nuovo campo questo indicando il nome indicando ovviamente il testo ma dovrebbe essere assolutamente cliccabile cioè ok intanto Federico risponde a docker va bene quindi quella discussione non mi riguarda intanto ok quindi poi Nicola magari perfetto fantastico liberate che abbiamo risolto veniamo quindi ehm a domanda di di Maria non saprei rispondere allora dipende come utente università dipende che se non saprei non saprei rispondere prima si può aprire la discussione la domanda di Maria che dice se avere come utente università se mai teniamocela per in fondo può essere un argomento di discussione Francesco chiede qual è il plugin per scaricare altri formati è un plugin però per QGIS server quindi va installato sul server quindi non è un plugin installabile su QGIS e ve lo plugin QGIS andiamo sulla pagina dei plugin di QGIS si dovrebbero però poter vedere credo spero non mi ricordo ok questi sono tutti i plugin QGIS server plugin il plugin si chiama VFS output extension va installato sul server è sempre sviluppato da da chi sviluppa l'Eastmap è installato sul server probabilmente nell'aggiornamento ho sbagliato qualcosina nell'aggiornamento che ho fatto pochi giorni fa pochi giorni non sono anche perché qua c'è scritto ah no ho creato il 2016 ma è stato aggiornato mi pare a gennaio proprio questo mese o da poco vediamo vediamo da qua la versione del 19 gennaio l'ho aggiornato da poco perché recentemente è stato aggiornato corrigendo alcuni alcuni barchi quindi questo è il plugin che consente di rispondazione per rispondere alla domanda di Francesco per velocizzare un progetto con tanti layer allora per velocizzare un progetto con tanti layer qualcosina le armi a disposizione sono se possibile usare laddove è possibile mi rendo conto che non sempre si può fare se si hanno dei gruppi di layer o se si ha la possibilità di raggruppare i layer e se si ha la possibilità di per lo scopo del progetto si intende di caricare di caricare tutto cliccando su un singolo gruppo meno cioè usare l'opzione group as layer cioè as layer perdon cioè usare l'opzione che rende un gruppo equivalente a un layer qualsiasi è un'opzione che velocizza infinitamente perché perché in sostanza crea cioè anche tutta la parte del get capabilities punta a un solo a un solo a solo al gruppo e non ai singoli layer che ci sono dentro quindi quell'opzione fa fa molto la segmentazione che facevo vedere prima dalle proprietà del layer un po' fa un po' velocizza si può lavorare abbastanza sulle cache datto browser client di default è impostata 300 secondi che non è niente sono pochi minuti si può tranquillamente mettere a parecchio e queste sono tutte opzioni che in parte possono aiutare l'altra poi vado forse fuori tema poi la domanda un'altra strategia è quella di creare anche dei sottoprogetti magari perché no usando il progetto padre progetto figlio non so se l'avete mal usato qua si apre un si potrebbe aprire un si può aggiungere un layer cioè aggiungere layer embed layer in group cioè creare un progetto padre con tanti layer e poi creare tanti che poi si va a definire a modificare a cambiare a personalizzare e poi si fanno tanti sottoprogetti che puntano a quello lì questa cosa qua ovviamente sempre che si possa fare sempre che sia che vada bene per lo scopo del scopo specifico è una strategia che può funzionare tendenzialmente ovviamente meno layer ci sono più progetto chiaramente rapido veloce e fresco quindi queste sono le possibili strategie dopodiché escludendo il fatto che chiaramente più i dati sono puliti se sono su database se c'è l'indice spaziale aiuta tutte queste cose esattamente come il progetto QGIS ultima strategia ma non per importanza la che si fa dalle opzioni dalle settaggi di QGIS non mi ricordo mai no però questa quindi questa non dovrebbe e non influisce la semplificazione ma direi che questa è di QGIS desktop non di della parte web direi che la semplificazione della proprietà del progetto non si può fare quindi direi che quelle che ho detto sono più o meno le strategie assolutamente non ho detto che sia l'ultima domanda ne vengano altre le domande sono fondamentali veniamo però solo dico due cose cioè due cose di editing l'editing abbiamo detto abbiamo già detto che l'editing si può fare ed è consentito può essere anche quello può essere consentito a tutti qualora il progetto non richieda oppure può essere specificato a quali utenti possano fare l'editing l'editing è consentito solo questo è un vincolo solo su Spatialite o su database Postis quindi non si può fare editing su uno shapefile non si può allo stato attuale fare editing su un geopackage non si può fare editing su un gml come in questo caso peraltro il gml non è possibile fare editing nemmeno come faceva notare giustamente non mi ricordo chi di voi ma Nicola forse o qualcun altro non è editabile nemmeno come su QGIS però sull'eismap devo avere il dato per forza di cose in un in un database o Spatialite o Postis quindi questo progetto qua non potremmo adottare applicare l'editing questa è la prima questione deve essere su database Postis a questo punto avendo previsto i tempi mi sono preparato perché se avessimo se tutti noi dovessimo caricarci i dati sul database Postis non avremmo non saremmo riusciti a non sarei riuscito a far vedere nulla mi sono preparato un progetto con i dati già caricati sul database Postis vi dicevo un progetto spero carino che cerco di illustrarvi giusto per per inquadrarvelo il portanto lo apro vi chiedo di non aprirlo anche voi perché questa volta di seguire me perché se no facciamo ovviamente conclusione poi avete la possibilità poi ovviamente potete provarvi vi daremo appunto al termine del corso un utente con la possibilità di accedere ai dati al database a uno schema del database e potete provare con scadenza credo a fine mese quindi potete tranquillamente provarlo o se no altro consiglio vi create degli spatialites su quello non avete non avete limiti temporali forse è ancora meglio utilizzare spatialite appunto senza allora Giorgio mi chiede una funzione per cercare un punto da coordinate note effettivamente no non saprei non mi pare che che in questo momento ci sia una conservo quello che dice cioè l'unica cosa che mi vengono in mente sono con nominative sì confermo effettivamente credo che manchi non escludo che ci sia ora poi alla risposta di Giorgio arrivo dopo chiedo tutto solo scusa finisco l'editing che poi mi parlo di non lo so perché non trovo non trovi allora questo progetto che ah sì ho capito questa roba qua la posso effettivamente buttare via ok vi spiego cos'è questo progetto che ho trovato a mettere in piedi tra ieri sera e stamattina è solo una demo ovviamente prende ispirazione da da questo file che ora vado a cercare un secondo e che vi mostro da questo file pdf che mi hanno mostrato ieri pomeriggio scusa apro il pdf ieri pomeriggio ero da un cliente e mi ha mostrato questa scheda di censimento dei ponti del ministero dell'infrastruttura dei trasporti sono 11 pagine questa scheda di livello 1 sono le linee guida uscite a aprile dello scorso anno se non ricordo male e di come andrebbero censiti i ponti la scheda a livello 0 è questa sono 11 pagine in cui bisogna inserire codice la localizzazione del ponte avrei già qualche dubbio sulla localizzazione per comune del ponte per singolo comune perché moltissimi ponti soprattutto i corsi d'acqua sono spesso al confine fra un comune e l'altro quindi già segnano proprio il confine quindi avrei qualche dubbio su questa localizzazione così precisa per comune vedrò che c'è la località e e con una serie di di opzioni da da fare vi dico subito che ho provato mi ci sono messo appunto tra i 6 stamattina mi sono fermato alla pagina 4 del anche se si può fare tutta e e quello che ho provato a fare è realizzare cosa che ovviamente si può fare non saremmo riusciti a farla in diretta appunto ho giocato un po' e arriviamo poi a tutte le varie domande sì scusate guardavo la chat ma mi rispondo poi a tutto senza senza disfarmi quindi ho provato a giocare un po' poi a crearmi il avevo avevo per fortuna già delle strade pronte estratte da un catasso strade su cui abbiamo lavorato siamo in provincia di Novara in questo caso e e quindi abbiamo ho preso nelle strade tutti elementi stradali quindi tratti stradali e tutte le strade e ho creato ancora molto grezzo questo tabella vuota con i ponti ne ho inserito uno di prova questa mattina e e poi mi sono fatto il il modulo su cui come ho fatto il modulo lo vediamo e poi come come l'ho fatto ora vi vi mostro interrogazione ponti adotti sottopassi mi sono fatto un moduletto che cerca di riprodurre molto grezzo ovviamente dal punto di vista estetico sarebbe decisamente da migliorare perché ho messo qualche alias l'ho messo qualche alias non l'ho messo quindi decisamente poi le il discorso delle colonne ho messo un generico due colonne probabilmente le colonne sarebbero da mettere ogni tanto due ogni tanto una sarebbe un po' da personalizzare ma sostanzialmente mi sono suddiviso in varie tab le informazioni altrimenti sarebbe avuto una una scheda progetto complicativo spaventevole diciamo così e quindi ho suddiviso i vari tab ripeto l'estetica lascia ancora un po' a desiderare tra l'altro poi le colonne le due colonne non vengono supportate da da lì un po' se potrai riportare ma anche se la QGIS poi certe volte non le gestisce bene a seconda delle lunghezze quindi mi sono creato su QGIS il mio le mie varie tab come lo create in maniera bella sempre dalle proprietà del layer modulo attributi invece che genera automaticamente usato la maschera di inserimento si possono creare le tab col più e poi all'interno delle tab si vanno a specificare i singoli i singoli elementi per alcuni elementi ho messo a parte l'alias ho messo delle relazioni valori qua sotto nel progetto trovate poi se volete darmi un'occhiata anche nei giorni prossimi ho messo le tabelle le corrispondenti tabelle di decodifica dicevamo quindi mi son creato il mio modulo mi son creato il modulo dopodiché questo progetto è da pubblicare ovviamente non è non è ancora pubblico quindi devo pubblicare il progetto il progetto sarà visibile ovviamente sarà visibile a tutti quindi metto le mie quello che dicevo prima le sezioni spaziale dovrei impostare il progetto spero che sia buona decido quali leggi a far vedere all'ingresso attivato tutte le decodifiche non le mostro vabbè dovrei anche usare titoli ponti sottogruppi sono le route gli elementi tra le route anche me le attivo dall'inizio vedete con la versione in italiano ora che ho fatto ripartire osmo standard lo nascondo mappi di base mettiamo le due per street map e poi arriviamo alla nostra modifica layer abbiamo veramente pochissimo e poi arrivano le domande modifica layer faccio più deve essere appunto un layer in post list cosa posso fare e deve essere caricato come servizio vfs scusa torno indietro forse l'avevo già fatto però non ricordo proprietà l'abbiamo già visto prima nei palazzi dei rogli allo stesso modo devo andare su qg server devo andare su mio ponti viadotti e vedo che è pubblicato non è necessario mettere perché in realtà viene controllato la vfs ma c'è un'interazione diretta con con database o postpress o specialize cioè viene fatto un insert direttamente su database quindi non è necessario specificare aggiornare se riesce elimina da qua ma in realtà lo si specifica dal plugin di map e la cosa molto carina è che io posso specificare ponti viadotti e sottopassi crea poi c'è consenti senza geometria che ora vi spiego cosa cosa vuol dire in questo caso io voglio che sia cliccabile anche con siti senza geometria e poi vi spiego perché da usare con molta cautela perché il rischio è anche di creare dei dati che non abbiano una geometria modifica attributi voglio che si possa modificare la geometria non voglio che si possa cancellare elementi oppure sì dipende in questo caso io non voglio cioè se il progetto non questo qua con la scheda ministeriale ma i ponti nel catastro strato da cui ho estratto i dati della ruta c'è in quel caso lì gli elementi non devono essere cancellati ma c'è una data di eliminazione in maniera tale che rimanga nel database quindi nessuno può cancellare ma gli utenti che appoglantanieri in quel caso possono cancellare gli elementi possono indicare una data di eliminazione qua dentro come dicevamo prima posso aggiungere i gruppi che siano autorizzati a editare il singolo layer quindi io potrei dire che il gruppo admin può cioè il gruppo user 1 gruppo 1 può editare su quel repository può editare ma potrei dire che questo ponti siano editabili solo dal gruppo 2 non dal gruppo 1 e quindi potrei limitare su alcuni gruppi altrimenti se lascio vuoto comanda quello che è stato impostato dall'ITMAP dall'ITMAP 3.4 c'è anche la possibilità di usare l'aggancio lo snap ora non ci entriamo ma c'è anche quella se io lo attivo chiaramente mi avvisa che essendo un layer 3D la quota verrà impostata a zero perché chiaramente faccio l'editing su mappa soprattutto se lo faccio su mappa di default viene impostata a zero gli dico che mi va bene e quindi cosa succede faccio ok ora se io vado a caricare questo progetto il progetto non l'ho rinominato quindi credo che il progetto lo potete lo possiamo caricare ciascuno di noi lo può caricare devo essere loggato se sono meglio il progetto lo posso vedere anche non loggato se sono loggato mi comparirà anche ora non so perché ho cliccato su salva sì mi sembrava di aver attivato i ponti che avevo detto no non li avevo attivati quindi ho detto mi sembrava male e quindi lo ricarichiamo ok non ho particolarmente nel parlare delle opzioni le avevo cliccate ma non le ho salvate non c'è lo sfondo aggiungo lo sfondo al volo vedete che comunque le modifiche sono estremamente rapide le ho dimenticate e le aggiorno abbastanza al volo a questo punto se sono loggato ovviamente ho le due possibilità uno di scusate no la info non si è andata niente di interrogare i ponti e di editarlo ok e vedete che vedo il il mio il mio tab posso scegliere il comune tutto quello che ho impostato lo lo vedo e ovviamente ora se non da caso alcune opzioni vengono impostate di default dati di progetto tutela tutte le mie tab che ho creato di QG se le vedo pari pari posso impostarmi i dati campi obbligatori campi no ora l'ho fatto ve l'ho detto molto molto velocemente forse anche un po' troppo e questa è la modifica ma allo stesso modo ora faccio annulla mi esce della modifica allo stesso modo su su questo tasto qua posso aggiungere quindi ipotizziamo di avere facciamo una cosa prima mi vietto ipotizziamo qua di voler aggiungere un secondo ponte ora forse non ho aggiunto il 1000 come scala doppio clic quando sono arrivato in fondo mi si apre il modulo se io ho degli elementi obbligatori che non ho inserito clicco su salva mi dirà che manca il campo obbligatorio mi dice guarda che di classe stradale è obbligatorio ecco il segnale rosso io continuiamo di mettere che è una strada penso che sia una strada principale non so, vado abbastanza a caso stiamo inventando faccio salva il dato è stato salvato, ora in questo caso ho messo, è anche impostato, se non volete testare giocarci, provare, è anche impostato un trigger su Postis cosa che ovviamente si può fare ce l'avevamo già, questo non l'ho fatto mi intirei se dicessi che l'ho fatto tra ieri e ieri e oggi, un trigger che mi va anche a pescare il codice della strada la progressiva iniziale, la progressiva finale di quella strada di, ovviamente sono dati che ho nell'altra geometria altrimenti non funzionerebbe e quindi ho la visualizzazione dei dati ora qua probabilmente in WMS in posizione di WMS c'è qualcosa che non va perché non vedo solo alcune colonne forse le impostate ne avevo tolte avevo tolte un po' di colonne un po' a caso forse però anche lì basta andare sul progetto QGIS e modificare e molto probabilmente campi ci saranno dei bisogna verificare probabilmente nell'organizzazione campi c'è qualcosa che va un attimo ripulito direi questo era quello che volevo farmi vedere comincio a riscorrere un po' di domande che non vorrei perdermi nulla una che avevo letto in precedenza al volo e che era relativamente all'editing concorrente assolutamente ovviamente viene viene gestito o l'ultimo sovrascrive dipende cosa intendi è chiaro che l'editing concorrente viene gestito poi è evidente che se io vado sullo stesso ponte e clicco qua sopra modifico i dati e poi tu clicchi lì sopra e modifico anche tu modifichi altri dati quello sullo stesso identico ponte o chiaramente l'ultimo tu sovrascrivi i miei dati ma se li aprissimo cioè se aprissimo il sono su QG scusa se aprissimo quel ponte in diretta nello stesso momento ovviamente possiamo lavorare sullo stesso layer in più parti diverse e possiamo anche tendenzialmente lavorare anche sullo stesso layer e sullo stesso ponte in maniera tranquilla intanto che al netto che nel momento in cui è aperto è chiaro che io ho recuperato quando cerco di spiegarmi l'unico limite è che quando io clicco su modifica in questo momento io leggo i dati che c'erano ora se contemporaneamente un altro cliccato su modifica in questo momento non mi sta aggiornando i dati se qualcuno di voi editasse questo ponte questo sì è l'unico limite ma questo è il limite anche di Pugis altrimenti è al netto di quest'unico limite che mi ha fatto venire in mente con la parola sovrascrive limite che però temo ci sono sempre quasi tutti molto difficile da 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 non avere nel senso che una fotografia di in quel momento del di quello che c'era da editare molte applicazioni web la farebbero e salvando chiaro che se sullo stesso ponte ora se io salvassi perderei delle cose che impostate nello stesso momento da un altro però invece l'editing concorrente sullo stesso sullo stesso layer è ovviamente assolutamente consentito lui in realtà fa elemento per elemento un insert e un update di quell'elemento lì quindi spero di aver risposto alla alla domanda di Stefano la pubblicazione su web è anche disponibile da mobile assolutamente sì e come vi dicevo se ora qua in questi vari esempi che trovate in questa demo che abbiamo messo in piedi non c'è un allegato ovviamente se io mettessi un allegato e una foto nella fattispecie come vi dicevo prima da mobile mi chiederebbe se andare a cercare la foto sulla galleria o se farmi scattare la foto se fossi da mobile da tablet da mobile tenete presente che per ottimizzare la visualizzazione potete anche eliminare per esempio la parte in alto non mi piace se so che la mobile voglio lavorarci la mobile ho la possibilità dall'opzione di mappa di nascondere la l'intestazione e già recupero dello spazio grazie a chi ci ringrazia Massimo chiede se sarebbe possibile l'installazione anche su NAS qua cominciamo a dipende secondo me dal NAS dipende se su NAS si può installare un web server può essere non escludo le registrazioni si saranno disponibili si ha già risposto grazie a Roberto che suggerisce sì effettivamente lato Postgres effettivamente magari si potrebbe evitare anche la scrittura giusto giusto osservazione ora non ci pensavo sì beh esattamente come col trigger che abbiamo impostato in questo caso carichiamo codice strada queste cose qua allo stesso modo si smanettando su po' diciamo che non lo fa da solo ma d'altronde da solo nemmeno il recupero del codice strada farebbe l'ipsnop però smanettando su Postgres si potrebbero risolvere anche come mi ovviamente risolva la scrittura allora le Nicola si su questo tema effettivamente si è andata veloce il riempimento automatico l'ho imposto si può impostare in entrambe le parti in questo caso io in questo specifico caso l'ho impostato l'ho impostato su Postgres si può si potrebbe impostare anche l'atto proprietà del layer almeno fino alla versione precedente forse fino alla 3.3 non sempre quello che si impostava come default value veniva recuperato con la 3.4 dovrebbe essere possibile dovrebbe esserci piena compatibilità con anche con i valori impostati su QGIS e va detto la 3.4 è è diventata stabile la versione stabile a inizio di quest'anno o nelle vacanze di Natale o a inizio di quest'anno è ancora in fase ovviamente di di piccolo debug potrebbe esserci qualche qualcosina ancora da sistemare anzi benvengano feedback curiosità e test da parte vostra assolutamente ora di non ho altro da aggiungere se non rispondere a eventuali domande e mi spiace poi di essere andato un po' veloce sul sull'editing ma ahimene cose da dire erano erano tante e spero appunto che che siate riusciti a a seguirmi in ogni caso e poi avete appunto avete vi lascio il vi lascerò vi lasceremo appunto tutti il materiale per poi provare a a giocarci un po' ripeto con specialite senza limiti di tempo vi lasciamo poi anche un utente da passolo con cui provare per il prossimo mese a livello gerarchico mi ricambio alcuni parametri progetto di ISMAP allora sì ma in parte non so se quanto fosse chiaro livello gerarchico più o meno questo ora poi i gruppi utenti forse non è lo schema adatto perché forse andrebbe separato livello gerarchico sicuramente c'è tra repository e progetto i gruppi gli utenti stanno sotto i gruppi e i gruppi dialogano sia con i repository che con il progetto nella fattispecie come abbiamo visto prima dall'impostazione di ISMAP si possono si può specificare quali gruppi possono vedere il progetto quali possono editare quali possono scaricare i dati eccetera eccetera è evidente che poi le stesse più o meno le stesse cose si possono anche specificare per singolo progetto l'ideale è lavorare cioè per quanto possibile lavorare su repository è la cosa ideale è vero che poi personalizzare singoli progetti può essere molto utile un esempio che mi viene in mente ma non è ovviamente l'unico è il classico progetto in fase di sviluppo progetto che io lascio la sera che non ho ancora finito su cui non ho ancora finito di lavorare in un repository che potrebbe essere un repository pubblico beh io quel progetto lì non è necessario che io finché non ce l'ho pronto non lo pubblichi anche perché in quel modo non posso testare non posso vedere cosa sta funzionando cosa non sta funzionando la soluzione ideale in quel caso lì che io suggerisco sempre per esempio è repository pubblico visualizzazione pubblica quel progetto però nella prima opzione opzione di mappa dico di bloccarlo solo a un gruppo di utente bloccato a quel determinato gruppo di utente quel progetto lì è nascosto fin tanto che non decido il giorno che ho finito tutto complesso l'ha visto il mio campo l'ha visto chi volete voi e a quel punto tolgo il limite ed essendo già in un repository pubblico è automaticamente pubblicato questo è un esempio non so se si era più o meno chiarificatore però forse è il primo che mi viene in mente però ce ne possono essere anche molti altri non è detto che debba togliere poi allora ottima domanda di Alessandro ovviamente funzionano gli svg cioè si possono usare ovviamente gli svg devo avere la cura cura di caricarli dentro i repository l'ideale è caricarli nella cartella media che è la cartella anche quella che trovate sulle slide dentro la quale trovate potete personalizzare gli stili del del progetto personalizzare gli stili del scusate del progetto del webgis quindi il logo eventualmente l'immagine di intestazione o altro quindi gli svg va bene usarli l'unica accortezza non potete usare quelli che prendete di default dal vostro dal vostro progetto noi abbiamo per esempio usato degli stili svg di quelli utilizzando il plugin quick no come si chiama resource sharing la cartella che QG scarica l'abbiamo presa e caricata su media e poi gli stili svg li abbiamo caricati da lì l'unico limite degli stili svg è che soprattutto quando il progetto degli stili svg è stare a fare un po' di attenzione ai progetti che sono condivisi tra più persone per evitare che qualcuno faccia un po' di confusione però Matteo chiede per dal volo la visualizzazione delle foto si ci riapriamo il progetto che è chiuso dei palazzi Erolli sbagliato dove sono in attesa di sì poi direi che potrebbe essere l'ultima domanda poi ovviamente avete sulle slide o altro vari riferimenti quindi sentiamoci ecco piccolissima precisazione c'è una c'è una piccolissima precisazione come per QGIS c'è anche una mailing list di Leadsmap non è italiana è internazionale dopodiché nella mailing list di QGIS Italia si possono fare domande su ovviamente anche su Leadsmap è chiaro che nella mailing list internazionale di Leadsmap magari si hanno risposte più più precise torniamo al secondo l'immagine probabilmente ecco io vi avevo detto della copio così vi avevo detto così veramente l'occasione di la copio in chat avevo promesso ma non l'ho mai fatto mi sono perso io l'ho scritto in privato e scrivo a tutti la ha scritto in chat l'espressione bisogna stare secondo me anche io mi ero sbagliato stare molto attenti agli slash quindi è una concatenazione fra una prima stringa e la seconda stringa foto parto da media perché le foto sono in media assolutamente sì sì concatatemi pure anche via mail sì quella domanda sì più che altro scusa la risposta un po' evasiva ma sì apriranno quasi una discussione forse è meglio parlarne parlare una parte grazie grazie a tutti nel chiudere l'ho detto anche quest'estate chiuso il webinar di quest'estate un po' più ridotto perché erano solo due ore infatti abbiamo visto meno materiale ho letto un sacco di apprezzamenti mi fa piacere gli apprezzamenti in realtà grazie però non tanto al relatore peraltro ho anche sbagliato diverse cose vuoi la diretta vuoi le quattro ore di fila o altro i ringraziamenti e il diciamo tutto questo è veramente possibile grazie agli sviluppatori di Lismop agli sviluppatori di QGIS quindi ogni singola e il nostro contributo quando scompaio tra i contributor di Lismop quando intervengo sulle issue di GitHub e a volte mi vergogno quasi un po' perché nel marasma nella quantità di materiale sviluppato mi sembra di non aver fatto quasi nulla di quel contributor mi vergogno quasi un po' e tutto questo è possibile grazie a una comunità abbastanza ampia quindi chiudo ricordando la possibilità di fare delle donazioni anche all'associazione e di associarsi all'associazione di Gifos che promuove questi eventi formativi e che promuove soprattutto il sottotitolo libero qualche anno fa tutto quello che ho fatto vedere oggi non sarebbe stato assolutamente possibile e e anche grazie all'associazione direi che sono stati fatti passi in avanti negli ultimi anni e quindi l'invito è associarsi costa davvero poco sono 30 anni all'anno è un piccolo gesto che può fare la differenza Roberto veramente grazie mille perché insomma i complimenti che stanno arrivando in chat sono credo proprio sentiti e sinceri perché ci hai veramente dato delle spiegazioni precise esaurienti e veramente diciamo con la competenza che ti contraddistingue nonostante appunto non sia un ambito molto semplice soprattutto perché magari si approccia la prima volta è ovvio che come dicevi tu tutto questo è possibile perché c'è una comunità dietro però anche se magari tu come dicevi non contribuisci tantissimo il fatto di divulgare di promuovere di segnalare di trasmettere è comunque fondamentale perché insomma anche chi magari non ha competenze come me in quest'ambito qua possa beneficiare dello sviluppo e del lavoro di tanti altri sempre in maniera open e quindi insomma davvero grazie per per quello che ci hai regalato oggi pomeriggio per queste quattro ore che sono state intense dense ma ricche di contenuti e veramente ben ben esposte quindi credo che di poter sintetizzare tutti i ringraziamenti che ti stanno arrivando in chat perché veramente hai mostrato ancora una volta la tua professionalità le tue capacità oltre che la disponibilità nel insomma nel regalarci delle spiegazioni semplici a tutti noi e ovviamente grazie grazie a tutti quelli che ci hanno seguito sinora e che dire niente ovviamente i contatti di Roberto li trovate anche sul tramite il sito di Digifoss se aveste bisogno di contattarlo non fatevi problemi vi ricordo che il prossimo webinar sarà il 12 di febbraio e tratterà le tematiche di Open Street Map per cui inizio già a invitarvi al prossimo seminario al prossimo webinar di questo ciclo di eventi spaziali così cosiddetti e quindi grazie anche a Roberto che sta condividendo lo schermo e il prossimo al prossimo al prossimo webinar ovviamente rinnovo la possibilità di associarsi e di rinnovare le iscrizioni vi ricordo di farlo ovviamente e di effettuare delle donazioni che poi verranno diciamo riversate a supporto di tutte le persone che insomma che lavorano e che collaborano per il software geografico free d'open source grazie a tutti grazie a tutti